Maria, ti devi spostare. Mi perdoni, non sapevo l'accento. Buongiorno e benvenuti all'Accademia di Belle Arti dell'Aquila e a questa giornata di studi dedicata a Giorgio De Marchis. È con grande piacere e onore che invito la dottoressa Diana Di Bernardino, direttrice della fondazione Giorgio De Marchis Bonanni Docre qui dell'Aquila e che saluterà il pubblico e introdurrà anche con il suo intervento il lavoro della fondazione dedicata a De Marchis e il dottor Tordera, il nostro presidente dell'Accademia di Belle Arti, che anche lui saluterà il pubblico e ci augurerà buon lavoro. Quindi do la parola alla dottoressa Diana Di Bernardino. Grazie Barbara. Buongiorno, sarò brevissima con i miei saluti. Vi ringrazio tantissimo l'Accademia per averci dato quest'occasione di parlare di Giorgio De Marchis insieme all'Aquila. L'Aquila che è stata la sua città d'origine, dove lui si è formato per i suoi primi anni di studi, dove ha voluto fondare la sua fondazione Giorgio De Marchis, ha voluto lasciare alla fondazione questo ricordo importante soprattutto come una testimonianza del suo lavoro e della sua figura intellettuale, ma soprattutto come un luogo di incontro, luogo di formazione, luogo di studio, una ricchezza in più per la città, per la città dell'Aquila, perché nonostante lui abbia trascorso moltissimi anni fuori la città, è stato in Giappone per diversi anni, poi la sua carriera di funzionario e dirigente dei beni culturali lo ha portato per molti anni anche a Roma, i suoi anni di formazione all'estero lo hanno tenuto lontano, ma il pensiero per la sua città c'è sempre stato e lui ha sempre, come dire, nei suoi programmi annuali l'ha sempre inserita una visita all'Aquila che poi si protrarreva per molti giorni e soprattutto nel periodo estivo. Rivedeva i suoi amici, riprendeva i suoi contatti, per cui per lui l'Aquila è sempre stato il suo punto di riferimento e di ritorno con i ricordi della sua giovinezza. Per cui ringrazio tutti di questa bellissima occasione e della vostra partecipazione. Adesso per quanto mi riguarda questa giornata di studi su Giorgio De Marchis è introdotta da Barbara Olivieri che con me ha condiviso il mio percorso alla fondazione De Marchis. Io sono arrivata nel 2005 e lei assieme a me come ricercatrice e tirocinante per preparare la sua tesi di laurea. E da lì è rimasta sempre al mio fianco. Abbiamo condiviso il lavoro di ordinamento del fondo archivistico, abbiamo condiviso tante vicissitudini che ci hanno portato fino a qui, insomma. Bene, quindi buona giornata a tutti e speriamo insomma di soddisfare con le vostre aspettative. Prego. Se vuole sedere? Sì, sì, sì. Allora io vi... Sì, va bene. Rispettiamo... Sì, va bene. Sì, va bene. Rispettiamo le regole. No, così posso avere una macchina per parlare. Perfetto, grazie. Grazie professoressa, grazie signora De Bernardini, dottoressa. E così, è molto piacevole. Non nascondo un briciolo di, non voglio dire di emozione, però così, di emotività. Perché essere qui, in questo teatro, per il quale in questi ultimi mesi con la professoressa D'Alesio, la nostra direttrice, abbiamo dovuto faticare per affrontare molti temi amministrativi e quindi per renderlo praticamente fruibile. E nell'arco di poche settimane il teatro della nostra Accademia diventerà fruibile per tutti. Quindi questa è una cosa molto, molto piacevole. Così come è anche piacevole il fatto che inizino su impulso della direzione dell'Accademia queste iniziative, volte a valorizzare quelle persone che hanno dato tanto alla nostra Accademia, alla nostra città e alla nostra regione. E quello che noi auspichiamo, ed è il senso vero di questa iniziativa, è quello di far capire che la nostra Accademia è un'Accademia vivace, è un'Accademia propositiva, è un'Accademia che va concretamente incontro a quelle che sono le aspettative degli studenti. Studenti che noi auspichiamo che diventino e crescano sempre di più nel loro numero, perché riteniamo, abbiamo giudicato con la professoressa D'Alesio, che il numero sia insufficiente, sia basso, e quindi noi vogliamo fare in modo che cose e eventi come quello di questa mattina, ma ce ne saranno tanti altri, vi accenno soltanto una cosa cui noi teniamo molto, abbiamo finalmente definito e sistemato il padiglione, che come sapete da tanti anni, da quasi un decennio, è lì inutilizzato, ma presto il padiglione sarà utilizzato a pieno, sarà portato e riempito di contenuti per le attività dei nostri insegnanti e dei nostri studenti. Quindi benvengano queste iniziative, vi ringraziamo, ringrazio anche lei, professoressa Drudi, perché queste sono le cose che mancano, queste sono le cose di cui l'Accademia ha bisogno, e queste sono anche le cose che il territorio ci chiede, perché nei nostri rapporti istituzionali, guardo la direttrice, ci siamo resi conto che anche il territorio, le istituzioni, si aspettano che dall'Accademia partano iniziative, novità, proposte, visioni nuove, e noi ci candidiamo a portare il nostro contributo in maniera molto fattiva e molto concreta. E grazie. Grazie a lei. Grazie mille. Grazie Presidente. Benissimo, allora passiamo la parola a Barbara Olivieri, che è già stata introdotta in parte dalla direttrice Diana Di Bernardino, che ci parlerà di un profilo biografico di Giorgio De Marchis, insomma ci introdurrà la figura di De Marchis, visto che è stata anche la sua tesi di laurea, quindi ne sa parecchio. Prego Barbara. Buongiorno, buongiorno a tutti. Grazie innanzitutto all'Accademia di Belle Arti dell'Aquila, grazie a Diana Di Bernardino per l'introduzione, grazie all'Accademia per l'ospitalità. Io, appunto, come diceva Barbara, sono innanzitutto un archivista e uno storico dell'arte per la fondazione Giorgio De Marchis. Ho conosciuto Giorgio nel 2006, quindi la mia esperienza è stata un'esperienza diretta della sua persona, quindi l'ho conosciuto e ho avuto la possibilità di lavorare con lui, di ordinare le sue carte e di avere un rapporto diretto con Giorgio De Marchis, quindi mi piacerebbe oggi tracciare un piccolo profilo biografico senza essere... Innanzitutto, lui non avrebbe voluto che fossi noiosa nel restituirvi soltanto sulla linea del tempo, il susseguirsi di quelli che sono stati i suoi incarichi istituzionali, ma di quelli che sono stati le sue pubblicazioni, di quelli che sono stati i suoi lavori. Innanzitutto mi piacerebbe farvi conoscere Giorgio per quello che era, ovvero un personaggio ironico, assolutamente sempre sarcastico, sempre puntuale, preciso, un filologo. Giorgio innanzitutto era un filologo ed era un filologo classico e questo suo essere filologo classico lo ha manifestato fino all'ultima delle sue pubblicazioni. Giorgio nasce all'Aquila il 9 luglio del 1930 da una famiglia che aveva sia da parte di padre che da parte di madre delle origini nobili e questa sua nobiltà, diciamo che un po' gli è sempre piaciuto manifestarla in qualche modo sempre in modo molto sottile mai volgare, mai inappropriato però insomma amava sottolinearlo e in qualche modo renderlo visibile agli altri. Vive all'Aquila, cresce all'Aquila, si diploma al liceo classico Domenico Cotugno poi va a studiare a Pisa e studia filologia classica si occupa di una, si laurea su Giovanni Pontano io non ho fatto delle slide ma ho portato soltanto tre foto di Giorgio perché appunto vorrei farvelo vorrei mostrarvelo un po' come uomo per quello che era questa è una foto di Giorgio in Giappone e arriveremo a parlare ovviamente di Giorgio che lavora in Giappone però ecco Giorgio era così anche quando lavoravo in fondazione Giorgio mi si presentava con questa pipa che accendeva continuamente lavorava continuamente con le mani il suo tabacco e addirittura quando io lavoravo le sue carte mi svuotava la pipa sulle carte stesse e questa cosa a me faceva sempre un po' terrore perché gli dicevo professore però mi prendono fuoco le carte e lui mi diceva ma no Barbara non prendere troppo sul serio queste cose divertiamoci, lavoriamo mi entrava sempre per la finestra Giorgio De Marchis quando io lavoravo in fondazione nella prima sede a Via Indipendenza che poi è il palazzo dove Giorgio è nato e dove ha amato vivere come diceva appunto Diana quando arrivava da Roma quindi ecco vive all'Aquila si laurea a Pisa su una tesi su Giovanni Pontano e pubblica nella sua tesi di laurea cinque documenti inediti di Pontano tesi di laurea che oggi conservate in archivio di Stato dell'Aquila Giorgio non smette mai durante la sua carriera di essere un filologo e di essere un filologo classico sapeva scegliere le parole le sapeva usare bene era puntuale era raffinato era ripeto ironico dopo Pisa Giorgio si dà all'Europa e si dà al mondo perché inizia a frequentare i corsi alla Sorbona a Parigi finisce addirittura a San Paolo del Brasile per lavorare per collaborare con uno stage alla Biennale dei Giovani di San Paolo del Brasile quindi quest'uomo che è dall'Aquila ecco lo vedete in una foto in montagna sulle montagne dell'Aquilane le montagne che per noi sono così identitarie e che potevano sembrare tanto lontane da lui e invece poi effettivamente non lo erano di De Marchis amo sempre citare delle righe di Venturoli che nel 68 in uno dei suoi libri che si intitola Tutti gli uomini dell'arte lo descrive così al di là del tavolo a bere vidi il De Marchis uno dei bracci destri di Palma Bucarelli alla Galleria d'Arte Moderna diciamo così un perfido di ruolo uno straordinario minotauro fra l'Abruzzo e Parigi anzi New York mi è assai piaciuto il modo dialettale col quale commenta cose nazionali anzi internazionali usa un polilinguismo a sfondo critico-satirico per esempio no non De Martis ma De Marchis il De Martis è il mio refuso è un abruzzese della costa io sono dell'Aquila vieni a trovare all'Aquila specialmente quando non vi bazzicherà più crispolti ecco questo era Giorgio un uomo che non non si è mai risparmiato critiche è sempre stato assolutamente sferzante sempre assolutamente ironico ecco l'ironia era un'arma che usava con tutti e a tutti i livelli sempre e quindi dopo la sua formazione in tutta Europa perché ho preso il suo curriculum in fondazione noi abbiamo i curricula che Giorgio si era scritto da presentare alle varie scuole e quindi appunto la Sorbona di Parigi Bruxelles Laia San Paolo del Brasile la Fondazione Cini a Venezia ad esempio più corsi per la Fondazione Cini più corsi per la Sorbona è un ciclo di dottorato alla Sorbona in sociologia dell'arte e poi rientra in Italia rientra in Italia e arriva in Italia negli anni 60 e arriva a Roma negli anni 60 perché vince questo concorso da ispettore nei ruoli della dell'amministrazione delle antichità e belle arti quello che per noi oggi è il ministero della cultura e quello che è stato il ministero dei beni culturali quindi vince questo concorso per intraprendere poi tutta una carriera istituzionale e finisce in Galleria Nazionale di Arte Moderna da Palma Bucarelli ad essere l'unico cioè l'ispettore del Novecento insieme a Dario Durbet che invece era l'ispettore per l'Ottocento il primo lavoro che fa Giorgio in Galleria Nazionale di Arte Moderna in cui lui ha a che fare con quella che definisce la zarina della galleria ovvero Palma Bucarelli il rapporto tra Giorgio e Palma è un rapporto strettissimo ma non è facile credo per niente anche da quello che mi raccontava lavorare con una come Palma Bucarelli doveva lei in qualche modo controllare tutto e guardo la dottoressa Velani perché penso che l'ha vissuti tutti e due e quindi sa perfettamente quello di cui parlo e era era complicato era complicato anche credo per una personalità come quella di Giorgio che era assolutamente un eclettico uno che non si fermava davanti a nulla che sapeva qual era la sua volontà cosa voleva trasmettere e doveva invece in qualche modo fare i conti con una che ne sapeva altrettanto e che aveva un carattere difficile no? un po' complesso che poco scendeva a compromessi credo Palma Bucarelli ecco detto fuori dai dei sì ma insomma Giorgio ne raccontava e in realtà insomma io un po' avendo studiato queste dinamiche credo che sì non era grazie e quindi ha a che fare con Palma Bucarelli e decidono entrambi insieme di portare quella che era l'arte degli anni 60 quella che era soprattutto la scuola la scuola romana l'accademia di Via Ripetta gli anni 60 che a Roma già prima dello sbarco come diceva Giorgio alla Biennale di Venezia del 64 della pop art direttamente dagli Stati Uniti d'America Roma viveva un fervore culturale importante che non era solo quello della dolce vita naturalmente ma che era quello storico artistico di Plinio De Martis e della Galleria La Tartaruga che aveva aperto nel 54 o ad esempio della libreria Feltrinelli sempre in Via del Babuino dove loro continuamente facevano mostre e si incontravano per esempio la Roma del Caffè Rosati la Roma di appunto Tano Festa Cesare Tacchi o Pino Pascali o addirittura appunto Giosetta Fioroni tutta quella che era la cosiddetta scuola romana e Giorgio ha rapporti diretti con la scuola romana conosce questi artisti è la prima mostra che presenta nel 63 quando appena appunto aveva vinto il concorso quindi già lavorava in Galleria Nazionale di Arte Moderna dove entra poi nel 62 come ispettore ripeto dal 900 la prima mostra che presenta fuori è quella di Tano Festa quindi si lancia direttamente come critico militante anche se poi forse un po' non si trova ad essere un critico militante calato nella sua contemporaneità perché era una critica militante reale che costruiva Giorgio soprattutto in Scusi ma è arte questa un libro che pubblica nel 92 dice e fa una critica anche lì sferzante della critica a lui contemporanea negli anni 60 che diceva essere troppo militante che diceva costruire troppi concetti su cose che casomai non erano state pensate dagli artisti in quel modo lui amava invece essere un filologo anche con l'arte contemporanea ed è questa forse la grande cosa da studiare di Giorgio De Marchis questo voler applicare un metodo rigoroso scientifico filologico non ad un manoscritto non ad un testo come si fa con la filologia ma a un oggetto a un quadro a una scultura a un'installazione ecco questo perché poi Giorgio De Marchis è quello che a Foligno nel 67 realizza una mostra organizza una mostra che fece epoca che fu lo spazio dell'immagine dove ecco Giorgio si interroga sempre sullo spazio e di come lo spazio può dialogare con le arti con le installazioni con i quadri con le sculture quindi si interroga sempre sullo spazio e come può essere in qualche modo questo spazio fruito trasformato e vissuto e d'altronde si interrogerà anche dopo quando diventerà soprintendente sullo spazio della galleria ecco Giorgio era un filologo e si occupa di grandi temi non si occuperà mai soltanto di un artista non sarà mai soltanto dedito a uno anche se si è occupato di colla e ce lo dirà Barbara se si è occupato di turcato ma non si darà mai soltanto ad un artista sarà invece uno che lavorerà un uomo come diceva Diana istituzionale un uomo che sarà calato tantissimo nel suo ruolo di dirigente poi all'interno di un ministero Giorgio è un uomo molto strutturato nella piramide istituzionale del ministero è uno che ci tiene molto al suo ruolo pubblico ovviamente perché credeva molto nello Stato e credeva molto nelle istituzioni e nel valore didattico e formativo delle istituzioni ecco questo è una cosa che mi ha trasmesso credo cioè per me è importante che un'istituzione pubblica funzioni bene perché l'istituzione pubblica arriva a tutta la collettività e in qualche modo anche l'ambizione e la presunzione di educarla questa collettività ecco forse di Giorgio la cosa più importante che mi porto dentro è questo oltre che ha una grande precisione e ha un rigore filologico nel fare le cose il rispetto però il rispetto per l'istituzione pubblica per De Marchi sarà importante e quindi penso che come diceva Diana voleva che la fondazione fosse anche questo un veicolo per trasmettere questo rispetto e per diffonderlo un po' nella società e all'Aquila che insomma lui pensava essere una città sempre un po' di provincia che amava tantissimo e che però credo insomma lui aveva speranza di cambiarla un po' da qualche parte questa città soprattutto nell'apertura sul territorio come diceva il direttore che è una cosa importante dialogare con le istituzioni e dialogare con la collettività con la società è importante e quindi lavora in Galleria Nazionale di Arte Moderna lavora negli anni 60 portando dentro la Galleria Nazionale l'arte contemporanea ma quella contemporanea davvero appunto Cesare Tacchi quindi Pino Pascali quindi questa questa scuola romana questi allievi di Toti Scialoia all'Accademia di Belle Arti di Roma che entravano in Galleria e dialogavano con una come Palma Bugarelli appunto e avevano l'ambizione insieme non solo di portare in Galleria l'arte contemporanea ma di portarla anche in Europa quindi mostre in Polonia mostre insomma in vari paesi Biennali di Parigi dove questi giovani artisti andavano a appunto mostrare a presentare le loro opere quindi dopo il decennio degli anni 60 che è un decennio brillante per De Marchis arrivano gli anni 70 in cui si sa l'Italia vive un periodo di crisi politica sociale economica e quindi anche le attività della Galleria sono insomma un po' rientrano entro le mura della Galleria e Giorgio si dà la pubblicazione di vari cataloghi appunto l'opera è appunto Ettore Golla oppure Giulio Turchato finché arriverà ecco scusate mi piace leggervi quello che Giorgio pensava degli anni 60 e mi piace leggervi le parole di Giorgio per farvi capire chi era Giorgio come si esprimeva gli anni 60 furono pieni di dèi e di dèi così nuove e vive straordinariamente seducenti che le prendemmo non solo per vere ma per fatti reali e tangibili un decennio di idee non solo nel campo dell'arte ma della musica della letteratura dello spettacolo dell'architettura del design e degli scritti politici e civili di Franco Basaglia di Mario Lodi di Don Lorenzo Milani di Bianchi d'Espinosa uno sperpero sontuoso di intelligenza in una società che stava passando con buon pro dal sottosviluppo al consumismo di massa ecco quello era l'entusiasmo col quale Giorgio sì 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 è eccellente con le parole io non mi sento non mi sento che far altro che leggervi Giorgio e vi invito a leggere Giorgio De Marchis perché è un ripeto un brillante filologo innanzitutto un uomo di una cultura importante che non si fermava soltanto a quello che era il suo lavoro quindi all'arte ma che sconfinava su tutto ecco aveva mille interessi era un uomo vivace era un eclettico era un intellettuale ripeto molto raffinato quindi Giorgio lavora in galleria negli anni 70 ecco vive questo periodo difficile poi nel 74 Giorgio decide di andare a Tokyo e ha questo incarico di direzione dell'istituto italiano di cultura a Tokyo e vi rimarrà fino al 78 ma gli anni giapponesi sono da studiare quindi li dobbiamo ancora un po' approfondire con la fondazione con il professor di Natale cerchiamo di capire un po' quali sono le dinamiche che si sono che si sono svolte in questi anni giapponesi comunque anche a Tokyo Giorgio porta quello che è il suo contributo quindi questo istituto italiano di cultura accoglie la cultura italiana in Giappone Giorgio con i giapponesi si divertiva tantissimo non li capiva non capiva la lingua naturalmente la conosceva poco però essendo un curioso ne indagava le dinamiche antropologiche di questi giapponesi e li prendeva in giro tantissimo perché si divertiva a capire come funzionava questa società giapponese e come si svolgeva la loro vita quotidiana poi torna in Italia dopo questi quattro anni a Tokyo torna in Italia da soprintendente alla Galleria Nazionale di Arte Moderna addirittura quindi direttamente all'interno del suo museo a dirigere quello che è stato il suo museo per anni però il soggiorno è molto breve ma in questo brevissimo soggiorno Giorgio De Marchis fa qualcosa di modernissimo apre la galleria anche di notte la sera la apre fino a tarda sera e fa entrare le persone al museo quindi questa galleria di Valle Giulia viene valorizzata viene aperta potenzia la didattica fa dei percorsi particolari per fruire a fine di far fruire tutti delle collezioni della galleria però poi viene fermato viene fermato da dei cavilli burocratici io non ho mai capito poi effettivamente quali sono stati i motivi di chiusura della galleria perché venne chiusa la galleria con la scusa che non erano a norma delle porte fondamentalmente e basta poi se ne torna in Giappone se ne torna in Giappone dall'82 al 92 quindi si cavalca questo decennio a cavallo tra gli anni 80 e gli anni 90 e anche lì forse è un pochino spento rispetto all'entusiasmo iniziale del primo soggiorno giapponese però continua a fare le sue attività e a portarle avanti insomma con il medesimo entusiasmo rientra in Italia poi nel 92 termina questo incarico da direttore dell'Istituto Italiano di Cultura a Tokyo e nel 93 fa parte di una commissione ministeriale per la ricognizione del patrimonio che era fuori sede del patrimonio culturale che era stato spostato fuori sede e nel 30 dicembre del 94 Giorgio De Marchis va in pensione va in pensione ma sicuramente non termina la sua attività perché appunto poi dagli anni 90 in poi si dà le pubblicazioni e diventa un po' uno scrittore e pubblica tre piccoli libricini due per Sellerio e uno per Enaudi in cui invece si diletta e torna quella che è la sua formazione quindi torna torna alla letteratura classica torna alla filologia torna poi in realtà alla storia dell'arte addirittura a Carpaccio e vi io ho insomma terminato il mio intervento l'ultima cosa che avrei piacere di leggervi proprio per augurarvi un buon ascolto dei prossimi interventi sono queste piccole righe che Giorgio scrive nell'album di viaggio in 40 anni di arte italiana il viaggio è un'esperienza solitaria quelli di gruppo sono migrazioni spedizioni anabasi scampagnate crociere marce sfilate sempre con qualcosa che richiama il collegio oppure la caserma orari programmi disciplina il viaggio solitario è un'altra cosa è un'esperienza di lettura e di decifrazione in cui quello che si scopre di nuovo interagisce con le memorie che ci accompagnano nessun viaggio né solitario né di gruppo tocca tutti i punti della carta geografica un viaggio è una linea un percorso fatto di punti successivi e di momenti successivi non necessariamente regolari tuttavia conseguenti quindi vi auguro un buon ascolto per questo viaggio che farete oggi nella vita di Giorgio De Marchis grazie grazie mille Barbara ecco spruzza grazie per questo bell'intervento anche molto partecipato il fatto che tu lo abbia conosciuto ha dato colore al tuo intervento quindi grazie e ora do la parola la dottoressa di Berardino e come dicevo all'inizio la dottoressa ci parlerà invece proprio strettamente della fondazione eccomi di nuovo a voi dopo questo spero per tutti bellissimo intervento di Barbara appassionato che sinceramente mi commuove moltissimo sì il mio problema è sempre il microfono bene io come diceva Barbara Drudi vi parlerò della fondazione della fondazione De Marchis che inizialmente diciamo vi posso ecco un attimo dire qualcosa di me sono appunto come insomma è lampante la direttrice di questa fondazione dal 2009 sono stata nominata direttamente da Giorgio De Marchis in testamento e l'ho conosciuto anch'io alla Galleria d'Arte Moderna di Roma durante il mio ventennale servizio presso questo museo dove mi sono occupata di organizzazioni mostre e di archivi soprattutto di archivi perché fondamentalmente sono un archivista e l'ho ritrovato all'Aquila nel 2005 a seguito di un mio trasferimento per motivi personali all'archivio di stato dell'Aquila e sono stata nell'immediato incaricata di occuparmi del riordino del ordinamento del fondo archivistico di Giorgio De Marchis perché perché Giorgio De Marchis oltre a aver fondato la fondazione nel 2003 ha dato alla fondazione come patrimonio fondamentale il suo fondo archivistico cioè tutto quello che lui aveva praticamente accumulato nel corso della sua vita nel corso degli studi quindi i suoi libri le sue carte questo fondo archivistico fu vincolato dalla soprintendenza archivistica appunto nel 2002 e hanno appunto incaricato me per il riordino e questo è stato un momento diciamo di mio trasferimento all'Aquila è stato un momento particolare insomma della mia vita è stato un cambiamento fondamentale ed è è è stato comunque bello perché è iniziata questa avventura con la fondazione e mi ha dato la possibilità di conoscere e approfondire la figura di Giorgio De Marchis soprattutto come uomo e nei suoi molteciplici aspetti per il suo carattere decisamente particolare e originale insieme abbiamo trascorso molte ore devo dire in fondazione in via indipendenza nella sede dove la fondazione ha avuto il suo primo luogo il palazzo De Marchis appunto come dicevo in via indipendenza 21 nelle due stanze della sua casa che lui aveva riservato per la fondazione ricolme di scatoloni liberi scaffali insomma messi nel modo più diverso diciamo così possibile abbiamo trascorso delle ore bellissime lunghe chiacchierate e diciamo che questo ha reso anche meno doloroso diciamo il mio distacco da Roma e dalla Galleria d'Arte Moderna che sono stati dove io ho trascorso i miei anni fondamentali per la mia formazione sia personale che professionale e lì ci siamo raccontati tante cose tanti aneddoti e ho potuto anche capire come dire anche quella sua maniera quel suo modo diciamo originale di di tenere insomma le sue carte e il suo lavoro dicevo che appunto la fondazione è stata istituita nell'ottobre precisamente il 28 ottobre del 2003 e viene riconosciuta come personalità giuridica dalla regione Abruzzo il 16 giugno del 2004 con il decreto 114 l'intento del fondatore è stato proprio quello di dotare come dicevo all'inizio nell'introduzione la città dell'Aquila di un istituzione di un istituto culturale di rilievo di rilievo nel suo carattere diciamo specifico mettendo a disposizione degli studiosi interessati tutte quelle sue tutte le pubblicazioni tutti i documenti che costituiscono il suo archivio che si è formato appunto nel corso della sua attività di storico e critico dell'arte tutto questo è andato a costituire il fondo il fondo De Marchis denominato appunto raccolta Giorgio De Marchis Bonanni Docre documenti di arte contemporanea gli intenti del fondatore sono ben delineati nello statuto della fondazione io vi leggo brevemente un articolo che è molto importante della fondazione l'articolo 3 è breve e anche molto semplice e dice la fondazione si prefigge lo scopo di preservare il patrimonio bibliografico documentale che ne costituisce la dotazione iniziale e di incrementarlo attraverso acquisti donazioni e convenzioni e di renderlo accessibile agli studiosi interessati ai fini di cui sopra la fondazione provvederà alla catalogazione conservazione incremento e accessibilità del materiale in nessun caso potrà svolgere attività diverse da quelle previste nel presente statuto per cui questo articolo che vi ho letto mi sembra chiaro sugli intenti e sul desiderio di Giorgio della funzione della fondazione appunto che lui ha voluto all'Aquila prima di andare a parlare più approfonditamente della raccolta documentale vi volevo illustrare brevemente quali sono gli organi permanenti della fondazione naturalmente abbiamo un presidente che è anche rappresentante legale e viene eletto tra i membri del consiglio d'amministrazione il consiglio di amministrazione originariamente era costituito da cinque membri poi con una diciamo con è stato praticamente ridotto a tre membri per dei motivi molto particolari che poi vi spiegherò in seguito sono membri di diritto appunto come dicevo il direttore regionale del MIC cioè l'attuale ministero della cultura il prefetto e il presidente dell'ordine del distretto notarile dell'Aquila e queste persone queste personalità comunque sono rappresentate rappresentano il consiglio di amministrazione e si occupano appunto quello di approvare i bilanci di tutto quello che è la parte amministrativa della fondazione mi ritorno indietro sul discorso del perché sono diciamo il consiglio di amministrazione è stato ridotto a tre membri perché perché al momento della morte di Giorgio De Marchis lo statuto era appunto composto da cinque oltre questi che vi ho descritto erano compresi anche due magistrati uno della Corte dei Conti e l'altro del Tar questi due magistrati avevano una funzione specifica assieme agli esecutori testamentari hanno praticamente gestito tutto quello che è stato diciamo il patrimonio della fondazione e hanno atteso appunto alla sua costituzione una volta concluso questo momento formativo della fondazione dal punto di vista giuridico hanno presentato appunto le loro dimissioni e il consiglio è tornato appunto a tre membri che sono effettivi e che appunto gestiscono dal punto di vista amministrativo la fondazione oltre il consiglio d'amministrazione abbiamo il consiglio scientifico questo è sempre stato composto da tre membri il primo il docente di arte contemporanea dell'università dell'Aquila attualmente rappresentato dal professor Giuseppe Di Natale che poi avremo il piacere di sentire il direttore dell'archivio di stato dell'Aquila e il soprintendente alla soprintendenza archeologica belle arti e paesaggio della provincia dell'Aquila e Teramo scusate mi sono dilungata su questo ma credo sia importante per far capire e descrivere la fondazione e poi c'è il direttore il direttore che generalmente è un archivista deve essere almeno per statuto un archivista o uno storico dell'arte o ambedue archivista e storico dell'arte nominato dal consiglio d'amministrazione e designato dalla soprintendenza archivistica per l'Abruzzo inoltre abbiamo il revisore dei conti che naturalmente fa la sua funzione ed è praticamente eletto tra l'albo nell'albo regionale dei revisori dei conti quindi detto questo come vi dicevo insomma nel momento diciamo che il 2009 è stato un anno importante per la nostra fondazione importante e decisamente particolarmente difficile perché si è aperto il primo gennaio con la morte di Giorgio De Marquis che questo naturalmente ha il suo peso insomma in tutta la storia della fondazione lui purtroppo si ammala e passa un brevissimo tempo purtroppo di inattività nei confronti della fondazione proprio a causa della sua malattia e poi niente c'è stato il 6 aprile tutti con i fatti purtroppo noti a tutta la città Palazzo De Marquis quindi la casa di Giorgio e quindi la casa della fondazione sono hanno subiscono danni veramente importanti comunque siamo riusciti a salvare a mettere in salvo il fondo tutto tutto l'archivio De Marquis oltre che i beni di Giorgio e abbiamo ricoverato il fondo archivistico presso l'archivio di Stato l'archivio di Stato dell'Aquila allora diretto da Ferruzzo Ferrucci che diciamo con grande generosità ci ha accolto e assieme al personale dell'archivio di Stato ci ha dato la possibilità sia di conservare il fondo e sia di mantenere le nostre attività che si sono rese immediatamente importanti e pressanti perché perché alla morte di De Marquis lui in testamento ha praticamente indicato di costituire tutto quello che era l'apparato di gestione della fondazione quindi gli organi della fondazione che vi ho descritto prima oggi la sede Palazzo De Marquis è ancora in fase di ristrutturazione post terremoto nel frattempo la fondazione è andata avanti ci siamo trasferiti nel 2018 presso Palazzo Cappelli Cappa in corso Vittorio Emanuele è stata una scelta un po' diciamo per stare in centro per stare vicino alla sede alla sede legale di Via Indipendenza e anche perché è stato uno dei primi forse palazzi storici in centro dove si potessero insomma come dire cominciare delle attività e quindi diciamo in questo palazzo abbiamo iniziato ecco tutte quelle che sono le attività le aperture le aperture agli utenti quindi la consultazione e altro insomma ora ritorno allo statuto nell'articolo 28 dello statuto viene descritto che ve lo leggo anche questo brevemente perché credo che siano dei passi fondamentali per descrivere il pensiero di Giorgio e la funzione della fondazione l'articolo 28 dice il patrimonio bibliografico documentale della fondazione conservato nel palazzo di via indipendenza 21 in L'Aquila sede della fondazione è una biblioteca specialistica di storia dell'arte poi dice è in parte ben maggiore che costituisce la ragione d'essere della fondazione di una raccolta estremamente ricca e per molti esemplari rara di miscellane che rappresentano un insieme di fonti anche iconografiche sull'arte della seconda metà del ventesimo secolo tale materiale lui dice questo in statuto una volta catalogato e informatizzato sarà liberamente consultabile sul sito internet della fondazione ecco vi faccio notare che questo statuto è stato praticamente studiato e scritto tra il 2002 e il 2003 e lui già sentiva molto pressante questo fatto di trasferire quello che è la sua testimonianza di documentale anche diciamo su internet quindi darne una fruizione a tutto a tutto tondo e naturalmente anche alla consultazione manuale diretta nella sede della fondazione dove sono ammessi studiosi e ricercatori d'arte e quindi questo praticamente introduce quello che cos'è diciamo lo scopo della fondazione quindi è quello di preservare quindi il nostro scopo il primo scopo è stato quello di preservare conservare e tutelare il fondo archivistico bibliografico il fondo come dicevo prima è stato denominato dalla soprintendenza archivistica assieme a Giorgio De Marchis raccolta Giorgio De Marchis Sibbonanni Docre documenti di arte contemporanea è stato vincolato dalla soprintendenza archivistica per l'Abruzzo con repertorio numero 96 il 19 marzo del 2002 ed è stato prodotto da Giorgio De Marchis nel suo domicilio nel corso degli anni della sua vita di studioso e dirigente di istituzioni pubbliche conserva un nucleo omogeneo di corrispondenza intercorsa con vari esponenti della vita culturale dei nostri tempi circa 200.000 pezzi cartacei che sono locandine ritagli stampa inviti a mostre cataloghi manifesti fotografie che sono da considerarsi ormai rari e unici come e sono da considerarsi valore unici con estremo valore di fonti per la storia dell'arte italiana e straniera degli anni del secolo XX una particolare attenzione va agli anni 60-70 a questi si aggiunge anche una ricca biblioteca di circa 100.000 di circa scusatemi 10.000 volumi e anche essi sono questa biblioteca è costituita sempre da cataloghi monografie di artisti cataloghi di aste riviste d'arte e saggistica questo ha un valore possiamo dire aggiunto per la similarità strutturale con l'archivio bioiconografico della Galleria Nazionale d'Arte Moderna di Roma tanto che può essere considerato come un'integrazione alla documentazione dell'archivio bioiconografico della Gnam l'ordinamento del fondo si è subito diciamo rivelato molto complesso ed elaborato per due motivi importanti due caratteristiche importanti la diversità dei documenti e il condizionamento approssimativo come dicevo erano era conservato in degli scatoloni che provenivano dal Giappone da Roma insomma un po' da tutti i luoghi che sono stati diciamo residenza di Giorgio De Marquis dopo un lungo periodo diciamo di studio e di analisi attenta dei documenti siamo riusciti a delineare quasi poi in maniera naturale un ordine storico anche se sommario dato dallo stesso produttore infatti sono state evidenziate due grandi sezioni l'archivio e la biblioteca che sono appunto una struttura portante la struttura portante di tutto il fondo per l'attività per questa attività di ordinamento ci siamo avvalsi fin dal 2006 della collaborazione di laureandi e specializzanti del Dipartimento di Scienze Umane dell'Università dell'Aquila che nel corso degli anni sono diventati dei validi collaboratori oggi possiamo dire che il fondo è quasi completamente ordinato e fruibile su internet come chiedeva lui nello statuto ed è praticamente diciamo che è stato ordinato al 99% ecco abbiamo la biblioteca che è consultabile appunto sul sito bibliotecario nazionale SBN e si presenta con una classificata per tipologia di argomento abbiamo la classificazione arte che raccoglie tutti i libri e volumi che riguardano appunto la storia dell'arte un'altra classifica importante di cultura generale che raccoglie tutti gli interessi vari al di fuori dell'arte di Giorgio De Marches quindi abbiamo letteratura che vi posso dire cinema parlerò di cinema anche narrativa per esempio poi abbiamo una sezione nuove accessioni che la fondazione cerca comunque di arricchire la biblioteca con degli acquisti e con delle donazioni un'altra sezione della biblioteca è il Giappone quindi è una raccolta appunto di volumi giapponese collezionati da De Marches nella sua esperienza appunto giapponese sono dei libri molto particolari che è diciamo anche di una certa di un certo pregio e rarità visto insomma come la tipologia insomma delle pubblicazioni giapponesi sono sempre molto curate dal punto di vista grafico poi abbiamo invece anche una bella collezione di periodici sono circa 800 titoli poi l'archivio passiamo all'altra sezione che è l'archivio che è consultabile anch'esso tramite una piattaforma la piattaforma xDAMS che è gestita e distribuita da Reggesta SRL che è aggiornata costantemente sul sito della fondazione l'archivio per la sua complessità è ordinato in subsezioni abbiamo gli scritti di Giorgio De Marchis che è una raccolta di tutti gli articoli pubblicati da Giorgio l'archivio propriamente detto che raccoglie appunto corrispondenza raccoglie progetti materiali di studio manoscritti di Giorgio e progetti appunto di studio documenti che riguardano la sua carriera istituzionale e la sua formazione poi abbiamo due sezioni di particolare secondo me rilievo che sono uno è stato chiamato mostre personali e l'altra mostre collettive che cosa vogliamo raccogliere con questa denominazione abbiamo raccolto appunto in buste monografiche in mostre personali dicevo titolate con il nome dell'artista abbiamo raccolto e conservato tutti i documenti che riguardano l'attività di quell'artista tutta quella letteratura grigia che va appunto a costituire l'originalità e la particolarità del nostro archivio quei famosi documenti che abbiamo sempre detto che sono da considerarsi fonti per lo studio dell'arte contemporanea e la stessa cosa è stata fatta per mostre collettive qui le buste monografiche sono suddivise per luoghi geografici quindi per città e a loro volta vengono suddivise per galleria e naturalmente tutta la documentazione raccolta riguarda gli eventi organizzati dalle gallerie che titolano appunto le nostre buste poi dicevo che c'è anche un'altra sezione chiamata appunto manifesti raccoglie una collezione di circa 300 manifesti che riguardano sempre il periodo delle attività di De Marchis e riguardano tutte quelle che sono state insomma le mostre tutta quella documentazione raccolta appunto da De Marchis durante la sua carriera e inoltre c'è per finire una sezione dedicata alle fotografie questa sezione è in fase di schedatura e raccoglie foto personali di Giorgio De Marchis e foto di allestimenti di mostre di opere e tutto ciò che lo interessavano ora non mi dilungo oltre per quello che riguarda la descrizione archivistica del fondo archivistico perché ci saranno sicuramente dei momenti dedicati a questo di approfondimento volevo un po' rivolgere ecco la la vostra attenzione a quella che è la formazione è molto importante questo per la fondazione De Marchis il programma formativo propone sempre stage e tirocini rivolti soprattutto agli studenti universitari infatti nel 2006 è stata stipulata la prima convenzione con l'università dell'Aquila attualmente il dipartimento di scienza e umane e con le stesse facoltà di arte contemporanea dell'università di Roma 3 l'università della sapienza e l'università di Teramo e questo appunto per offrire a laureandi e specializzanti la possibilità di conoscere e approfondire le tecniche e le metodologie archivistiche che riguardano appunto l'ordinamento archivistico guardando al futuro possiamo dire che attraverso biblioteche archivi vogliamo diffondere il vasto patrimonio documentale della fondazione con la realizzazione di pubblicazioni annuali per il momento chiamate appunto i quaderni della fondazione questi poi saranno sicuramente affiancati ce lo auguriamo con la pubblicazione di scritti riguardanti l'arte contemporanea non so tesi di particolare pregio e altro inoltre la fondazione in questi ultimi anni cerca di incrementare il proprio patrimonio e questo è stata un'occasione molto importante per la fondazione quella di ricevere lasciti e donazioni nel 2019 la prima donazione importante che la fondazione ha ricevuto è stata quella della collezionista romana Vittoria Zileri dal verme fondatrice della galleria arte scena arte in scena perdonatemi nel 2020 è stata con l'acquisizione dell'archivio Tiziana Fusari un'artista marchigiana che ha vissuto e lavorato all'Aquila e sempre dal 2020 sono in fondazione in comodato d'uso le fotografie della collezione in vista di proprietà del liceo Fulvio Muzzi dell'Aquila è un nucleo di circa 250 fotografie di vari autori italiani e stranieri tra cui spiccano dei nomi importanti di fotografi come Claudio Abbate abbiamo Giovanni Chiaramonte Ugo Mulas Luigi Erba giusto per fare qualche nome di cui abbiamo in preparazione una mostra e un catalogo non so penso per il momento insomma di avervi detto tutto quello che riguarda per il momento la fondazione spero insomma di essere stata più che esaustiva in questo poi se avete qualche domanda sono a vostra disposizione grazie Diana sì io una domanda ce l'avrei dunque no grazie per questo diciamo racconto dettagliato della struttura della fondazione eccetera visto che personalmente ho avuto nel bene e nel male modo di occuparmi di fondazioni mi domandavo la fondazione ha un lascito diciamo finanziario avuto da parte dei marchi ci sono delle sovvenzioni ministeriali come si finanzia ecco questa è una domanda molto importante che affronta insomma un argomento anche particolare definiamolo particolare per la fondazione sicuramente Giorgio De Marchis al momento della fondazione dell'istituzione della fondazione l'ha resa erede universale erede universale dei suoi beni quindi il patrimonio principale è sicuramente il fondo il fondo archivistico e poi la fondazione ecco ha ereditato una parte ecco dei suoi beni che finora ci ha dato la possibilità di sostenerci e di andare avanti naturalmente apro una parentesi comunque con il terremoto del 2009 certo delle entrate non ci sono state più ecco queste entrate sono venute ecco a mancare diciamo le entrate tangibili concrete del momento che ci aiutano a risolvere i vari problemi di gestione spero che le istituzioni pubbliche ci diano una mano ecco ad andare avanti in questo niente per il momento è solo il lascito di Giorgio De Marchis no comunque si possono fare anche proprio delle richieste precise diciamo a progetto abbiamo fatto sì già una richiesta al Ministero della Cultura che ha una sezione dedicata proprio al sostegno e al sostentamento delle fondazioni abbiamo comunque partecipato anche a questo bando annuale con i nostri progetti ecco già il nostro progetto per il nostro progetto prossimo non voglio più parlare di un progetto futuro ma quasi prossimo della mostra come vi dicevo della scelta delle fotografie della collezione in vista con il relativo catalogo però ecco sono sempre fondi destinati per progetti specifici quindi quello che è la gestione e il sostegno diciamo finanziario del quotidiano della fondazione questo no con il lascito di Giorgio sopravviviamo grazie grazie a voi grazie grazie allora ora abbiamo la nostra direttrice la professoressa Maria D'Alesio che sono molto contenta perché di questa ipotesi di giornata di studio è stata lei a parlarmi per la prima volta due anni fa quando io sono tornata all'Aquila dopo tre anni a Firenze e una delle prime cose che ci siamo dette appunto lei mi ha detto dobbiamo fare una giornata di studi dedicata a De Marchis proposta che io ho accolto subito con entusiasmo e quindi sono molto contenta che siamo qui finalmente al tavolo a parlare di De Marchis e Maria ci parlerà della pur breve ma comunque periodo di De Marchis professore qui da noi all'Accademia di Belle Arti prego infatti ringrazio Barbara Drudi Barbara Olivieri per aver organizzato pensato e finalmente realizzata questa giornata si è atteso un pochino perché è un po' di mesi che si pensava di organizzarlo in attesa del miglioramento delle condizioni generali e quindi finalmente si può fare in presenza in teatro già questo è un motivo di veramente molto positivo per noi per l'Accademia l'idea di Giorgio De Marchis nasce semplicemente quando un giorno io entro nell'archivio nostro dell'Accademia vedo tutti i faldoni con i nomi dei docenti e vedo scritto Giorgio De Marchis io insegnando qui non ero a conoscenza di questa sua attività perché non ci sono dei testi specifici fino ad ora sull'attività didattica neanche c'è un elenco dettagliato per il momento dei vari docenti che hanno insegnato in Accademia e quindi sapendo dell'esistenza della fondazione abbiamo pensato di valorizzare anche l'esperienza di De Marchis nella città e anche come docente dell'Accademia tra l'altro lui ha avuto un ruolo molto importante nell'Accademia perché fa parte di quel nucleo che ha fondato l'Accademia cioè parliamo quindi del primo anno accademico dell'Accademia Aguilana che nasce nel 69 quindi il primo anno è 69-70 nasce in un momento particolarmente felice della città dell'Aquila con diciamo sollecitazioni anche di uomini politici locali come Luciano Fabiani che promuovevano delle iniziative importanti anche con le istituzioni di nuove istituzioni formative e culturali come la fondazione del teatro stabile dell'Aquila che è solo del 63 quindi darà un grande impulso culturale alla città e di poco precedente all'istituzione dell'Accademia dell'Aquila nel 67 viene fondato il Conservatorio di Musica dell'Aquila che nasce inizialmente come sede di staccata del Conservatorio Romano di Santa Cecilia ma che acquisterà ben presto una sua autonomia e anche un indirizzo molto specifico quello di studiare valorizzare le ricerche di musica contemporanea in questo contesto quindi si capisce anche come serviva un'altra istituzione formativa ancora non presente l'Accademia di Belle Arti l'Accademia è la prima sede dell'Accademia era in centro al corso Vittorio Emanuele al numero 124 e rimarrà fino al trasferimento nell'89 nella sede attuale dove siamo noi ora viene chiamato direttamente dal Ministero il primo direttore cioè Piero Sadun Piero Sadun ricordo che c'è stata una bella mostra un bel catalogo che è stato tra l'altro curato da una docente qui dell'Accademia dell'Aquila alla professoressa Francesca Franco e che ha per la prima volta anche cominciato a raccogliere a sistemare la storia dell'Accademia ci sono molti documenti in Accademia c'è un archivio che è tutto da scoprire che riguarda appunto non solo la storia formativa ma più in generale tutta la storia culturale dell'Accademia e anche il ruolo che un'Accademia ha in generale che non è solo quello puramente formativo di organizzare una formazione in base ai pieni di studio gli orari i docenti ma quello anche di produrre di avere una produzione culturale come è valorizzare i propri archivi una produzione di ricerca artistica che è fondamentale per l'Accademia in modo particolare per l'Accademia dell'Aquila che ha una bella storia molto importante è diciamo un periodo relativamente breve perché ha solo 50 anni ma va valorizzata per poter anche poi muoversi con più offrire poi sempre di più agli studenti quindi torniamo però al 69 torniamo a Sadun Sadun è un artista un pittore uno scenografo un uomo di cultura pienamente inserito nell'ambiente culturale romano e questo ambiente culturale romano lo vedremo come contesto di riferimento anche per il primo reclutamento dei docenti dell'Accademia Sadun aveva anche già una sua esperienza di docente perché aveva cominciato come docente al Centro Sperimentale di Cinematografia e successivamente come docente di pittura all'Istituto d'Arte subentra alla cattia di pittura che era stata di Ziveri subentra Sadun e quindi ha una sua perfetta conoscenza anche non solo dell'ambiente culturale ma della didattica e si muove in questi primi mesi per organizzare l'Accademia perché i corsi in realtà iniziano nei primi mesi del 70 i primi tre scuole sono pittura scultura e scenografia e secondo quelle che erano le istituzioni e il funzionamento di quegli anni cioè le scuole avevano un docente un assistente c'era solo una materia teorica storia dell'arte e plastica ornamentale incisione e in questa accademia già dall'inizio la scuola libera del nodo quindi i docenti sono pochi e un'esigenza che viene subito fatta propria da Sado da questo primo nucleo che adesso vedremo è quella che questa tipologia questa impostazione non è sufficiente a dare una formazione efficace coerente per chi vorrà fare attività artistica per i futuri artisti e quindi propone di istituire degli insegnamenti che lui chiama corsi liberi per poter ampliare l'offerta formativa e sono sono molti sono sia di materie teoriche e anche di materie legate ai laboratori viene in qualche modo accettata questa ipotesi di Sado anche al ministero perché era un'accademia nuova nasce anche con la volontà anche burocratica di dare un impulso una specie di accademia pilota che potesse fare anche proprio le esigenze nuove culturali di sperimentazione che erano proprio di quegli anni quindi siamo nel 69 e riesce Sado riesce in questo intento e quindi chiama attorno a sé docenti come vi dicevo sia dell'ambiente romano ma anche dell'ambiente milanese De Marchis iniziamo a vedere il ruolo di De Marchis De Marchis arriva quindi come docente e comincia nei primi mesi del 70 la sua attività di docenza qui vedete se non so se riuscite con la luce c'è il documento uno dei documenti conservati nell'archivio che è il certificato di servizio di De Marchis che quindi vedete che parte non so si può un po' abbassare la luce o si vede che lui inizia da marzo 1970 a metodologia storica continuerà per qualche anno e c'è anche un'esperienza come docente di estetica però torniamo a qualche dato per ricordare l'attività di De Marchis nel 69 quindi nel 69 quando lui inizia a 39 anni ricordo brevemente alcune delle iniziative fondamentali che lui ha organizzato in quegli anni come già ricordato Barbara Olivieri la famosissima mostra del 67 lo spazio dell'immagine di Foligno mostra fondamentale che riuniva tutte le esperienze innovatrici sia dell'ambito romano milanese con anche artisti legati alle esperienze cinetiche insomma una mostra veramente importante e ho segnato qualche altra attività la personale di festa siamo sempre nel 67 alla Galleria La Salita alla Gnam nel 68 organizza cento opere d'arte italiana dal futurismo a oggi e ricordiamoci questo il futurismo perché ne riparliamo successivamente nel 69 per rimanere a una selezione delle sue attività la ventetresima mostra la fondazione Michetti di nuovo alla Gnam pittura e scultura nelle collezioni della Galleria Nazionale d'Arte Moderna la mossa di Ceroli nel 70 la mossa di Golla a Roma e poi due decenni di eventi artistici in Italia 50-70 a Prato quindi questi sono gli anni immediatamente vicini all'attività di docenza e quindi dal certificato noi abbiamo dal 70 73 74 anche estetica e poi in una lettera sempre conservata nel nostro archivio spiega perché deve interrompere la sua attività didattica e scrive la lettera è datata 21 settembre 74 e ovviamente motiva la conclusione della sua attività scrivendo che in conseguenza del mio di sacco a Tokyo in qualità di direttore del locale istituto italiano di cultura sede che raggiungerò nei prossimi giorni devo pertanto rinunciare con rammarico a ogni eventuale incarico presso Codessa Accademia per l'anno 74-75 e poi continua con molti ringraziamenti ai docenti agli studenti insomma quindi con grande con ricordo molto positivo di questa attività ma per poter insegnare ci sono comunque anche in quegli anni che sembravano meno così chiusi da burocrazie un po' limitanti ci sono comunque delle domande ufficiali da fare se l'altra io dunque dunque quindi deve fare delle domande per poter insegnare presente il 12 novembre 69 questa non è la domanda ma il la commissione è l'esito della riunione della commissione vedete se riuscite a vedere i nomi dei commissari è abbastanza interessante poi ve li dico vabbè però Sadu Maurizio Calvesi comunque dunque presenta la domanda nel 69 come questa è la dicitura ufficiale aspirante alla nomina di insegnante non di ruolo negli istituti di istruzione artistica e nei vari curriculum che deve ovviamente fornire all'amministrazione ricorda quello che già ha accennato in maniera anzi non ha accennato ma ce ne ha parlato in maniera molto esossiva Barbara Olivieri le sue competenze ispettore storico dell'arte di ruolo presso la sovrintendenza le gallerie Roma 2 e per quanto riguarda soprattutto la didattica e l'insegnamento commissario di storia dell'arte per gli esami di maturità presso alcuni licei classici elenca inoltre che lui ha l'abilitazione all'insegnamento della storia dell'arte nei licei classici ha l'idonità alla cattedra che era un altro concorso idonità alla cattedra di storia dell'arte sempre nei licei classici anche ricorda che è stato assistente di sociologia presso la facoltà di lettere negli anni dal 64 al 67 direttore di ricerca e comunque dà tutta una serie di informazioni in parte le stesse ricordate anche di borse di studio di esperienze legate comunque alla didattica negli anni appunto precedenti collaboratore pubblicazioni scientifiche eccetera eccetera bollettino d'arte insomma c'è un curriculum di 10 pagine e qui vediamo i commissari e la valutazione data dai commissari si chiamava diciamo era un concorso che allora chiamavano per titoli abbreviati che adesso diremmo noi per soli titoli in cui non c'è un esame una di un testo scritto o una lezione da preparare ma si presentano soli i titoli quindi se voi riuscite a vedere viene ricordato ci sono i punti per l'abilitazione all'insegnamento la laurea il punteggio per i titoli artistici 60 e il giudizio sintetico la commissione presa visione delle qualificate pubblicazioni presentate dal candidato lo ritiene idoneo all'insegnamento richiesto firmata dai commissari e datata 18 marzo 70 come vi ho detto tra i commissari Sadun come direttore dell'accademia e Maurizio Calvesi poi una nuova valutazione richiesta per l'anno accademico 71 72 questi sono dei telegrammi di accettazione ve li faccio vedere uno dietro l'altro perché almeno ci sono i telegrammi conservati negli archivi che si conserverà adesso non lo so ecco riesce anche i due anni di attività didattica presso l'accademia delle arti dell'Aquila le nuove pubblicazioni le nuove anche realizzate col contributo del CNR firmate e datate 2 novembre 1971 quindi siamo terzo anno in questo caso la commissione non è più formata da Maurizio Calvesi ma da Marisa Volpi Orlandini quindi i candidati delle materie teoriche dell'accademia dell'Aquila nel 69 70 tutti sono giudicati da Calvesi e Sadun come direttore dal 71 in poi da Marisa Volpi Orlandini e questo fa capire che poi questo riferimento romano è anche molto esplicito diretto perché tutte e due ovviamente sono storici dell'arte erano storici dell'arte di ambito romano e tra l'altro pure i miei docenti all'università e ovviamente ci sono l'accettazione di questa sua nuova domanda e può continuare a insegnare per poter insegnare deve chiedere come funzionario museale della pubblica amministrazione deve chiedere l'autorizzazione e qui ci sono in archivio da noi diverse lettere perché non era facilissimo avere questa autorizzazione quindi bisognava avere l'autorizzazione dal sovrintendente ovviamente parliamo di Palma Bucarelli quindi in tutte queste lettere lui dice ma io ho avuto l'autorizzazione dalla sovrintendente da Palma Bucarelli ma il ministero una prima volta non accetta questa richiesta quindi ci sono nuove richieste attraverso le lettere che lui consegnava all'amministrazione dell'accademia per poter insegnare quindi insomma è un po' così macchinoso lento può comunque insegnare in altre lettere ci sono anche l'orario di insegnamento cioè lui insegnava il lunedì e il martedì dalle 16 alle 20 e quindi lui dichiara che questo non creava incompatibilità con le esigenze di servizio dell'accademia nazionale questa norma c'è tuttora è una cosa che infatti chiede di ruolo anche nell'accademia se vuole avere nuove delle attività didattiche si parla su attività didattiche in altre istituzioni deve chiedere l'autorizzazione allora adesso però torniamo perché io ho solo detto che lui ha insegnato metodologia storica estetica vediamo se nell'archivio dell'accademia c'è qualcosa oltre all'aspetto burocratico amministrativo che ci può dare indicazioni sulla metodologia sull'attività di docenza e c'è una bella lettera del 19 gennaio 70 quindi siamo proprio all'inizio dell'attività in questa lettera scrive al Sadun e da quello dalle prime righe si capisce che c'erano stati incontri e collochi precedenti non solo legati alla sua attività didattica specifica ma più in generale sull'impostazione da dare all'accademia quindi ed è attualmente l'unica lettera che io ho trovato non solo di De Marchis ma anche di docenti a lui diciamo i colleghi di De Marchis di questi anni e lui dice quindi propone questo corso di metodologia storica costituito da lezioni di metodo cioè sugli strumenti e sulle finalità della ricerca sugli oggetti d'arte in quanto essi stessi oggetto storici tale corso potrebbe essere reso particolarmente vivo affiancandogli una parte pratica in cui la metodologia anziché restare a stratta formulazione verrebbe applicata agli oggetti d'arte mobili immobili che si trovano sul territorio aquilano e la lettera prosegue inoltre insieme alla sua questo approccio metodologico che quindi è in linea con quello che si è già detto nelle relazioni precedenti lui dice che si vuole anche organizzare delle lezioni specifiche su questioni di arte contemporanea non solo italiana sotto un'angolatura metodologica che abitua gli allievi a considerare i fatti presenti non meno storici di quelli passati e cioè intimamente legati a tutto il pensiero di una data società in un dato luogo in un dato tempo quindi questo è molto interessante perché spiega la la sua metodologia didattica e questa materia metodologia storica fa parte di questo numero di come dicevo prima di materie speciali di corsi speciali questa la possibilità di aprire a materie teoriche altre è una cosa che solo dopo i decenni di fatto le accademie hanno reso propria perché anche quando ho iniziato io a insegnare c'era praticamente solo storia dell'arte poi vedremo a sorpresa chi insegnava invece l'arte ordinamentale sempre ordinamentale cioè c'era una adesso così mi incuriosisco quindi metodologia storica qualcuno che ha a che fare con la gnamma c'è tutto un percorso alla gnamma quindi metodologia lezioni teoriche lezioni pratiche quindi ovviamente De Marchis è un'accademia quindi questo aspetto di integrazione metodologica e lezioni pratiche è molto importante molto interessante e continua con una serie di indicazioni anche se non per il momento io non ho rintracciato dei programmi specifici di De Marchis però l'archivio è molto grande non sono un archivista anzi chiederò aiuto alla fondazione è per perfetto allora cercando di capire un po' l'accademia di quegli anni c'è qualche piccolo articolo qualche recensione di giornale che ci dà modo di capire l'impostazione generale anche di Saturn perché nel 21 aprile 70 quindi a pochi mesi dall'apertura dell'accademia in una recensione pubblicata sul tempo ci sono riportate delle dichiarazioni di Saturn in cui dice che l'accademia è una scuola sperimentale di altissimo livello dove i corsi speciali che rappresentano l'elemento dialettico si basano su temi come tanto per citarne al qualcuno estetica psicologia delle percezioni tecnica dei nuovi materiali tendenze attuali dell'avanguardia allora che erano materie quasi visionarie per l'accademia di allora e poi lui dice non è un insegnamento tipicamente scolastico ma un fermento vivo e continuo che leghi allievi e professori che li incidi a un lavoro d'insieme altamente produttivo comincia a citare qualche nome cita Andra Cascella Paolo Scheggi quindi anche dei riferimenti milanesi non c'è solo un ambito romano Ceroli Antonio Calenda Giorgio De Marchis quindi citato nel primo nucleo di docenti fondatori dell'accademia poi Luigi Marotta c'è Gino Marotta eccetera però anche il primo vice direttore non so chi lo sa chi era stato il primo vice direttore perché ci tiene moltissimo a ricordarlo cioè Achille Bonitoliva lui quando parla insomma nelle occasioni in cui si fa riferimento alla vita dell'accademia lui dice sempre io sono stato il primo vice direttore dell'accademia di belle arti dell'acqua anche quando è venuto qualche anno fa in occasione di una della inaugurazione dell'anno accademico la prima cosa ha detto sono stato vice direttore e beh mi sembra che le personalità non sono proprio tanto compatibili c'ho questa no ma poi certo cioè proprio i suoi due mondi della critica d'arte di quegli anni e quindi lui dice questo Bonitoliva dunque l'accademia vuole operare all'insegna del rinnovamento culturale e strutturale pur nel rispetto della continuità dove la continuità è individuata nelle scuole tradizionali di pittura scultura scenografia e storia dell'arte le quali forniscono una preparazione tecnica a livello universitario e dove elementi innovatori sono i corsi speciali i quali hanno lo scopo di allargare la preparazione teorico culturale generale degli allievi affinché essi una volta usciti dall'accademia siano in grado di operare delle scelte a livello individuale pienamente consapevoli e condizionanti di nuovo Sato un poco dopo nel 72 in un altro articolo ribadisce la necessità che insieme ai corsi generali siano sempre attivati questi corsi speciali perché mi sembra di aver capito che già dal ministero cominciava ad esserci un certo irrigidimento subito dopo due anni già irrigidimento troppi corsi speciali bisogna appunto ritornare agli ordinamenti più tradizionali e quindi Sato tenta ovviamente di continuare a pensare un'accademia che recepisse proprio le istanze più innovatrici di quel periodo di grande intensità culturale eccetera e quindi di nuovo dice che i corsi appunto ribadisce che i corsi speciali sono molto importanti parla che bisogna che esista una complementarità tra le materie umanistiche e quelle tecniche anche nel campo artistico non possono esserci separazioni ma bisogna che bisogna saldare le fratture storie tra scienza e cultura un nuovo umanesimo che tenga conto delle esigenze della civiltà tecnologica e della tradizione del nostro patrimonio di idee di cultura e di nuovo cita i principali docenti allora adesso svelerò chi era la docente di storia dell'arte ordinamentale Augusta Monferini che eh ma no allora dico ordinamentale perché questi erano corsi speciali di solo otto ore settimanali invece lei aveva la cattedra completa e si chiamava più o meno come si chiama adesso che ancora si chiama stile storia dell'arte del costume quindi aveva un incarico annuale lei era già nella pubblica amministrazione ma aveva credo perché c'è una corrispondenza complicatissima capire tutte le lettere al ministero poteva insegnare non posso insegnare comunque però questo non è scritto io vi affido agli archivi non c'è scritto c'è scritto che era già di ruolo della soprintendenza Roma 2 non so era Mattia il suo responsabile c'è questo comunque lei rimane in servizio sì però non è stata siccome però non hanno avuto il buon senso la commissione non era composta da Calvesi perché queste commissioni erano riferite solo ai corsi speciali che erano corsi fatti solo in questa accademia nel suo caso lei aveva un'altra tipologia di assunzione perché esatto lei era regolare lei era faceva il suo corso annuale regolare le sue 16 o 18 ore a seconda degli anni e faceva storia dell'arte come tutti gli altri docenti i quattro anni perché allora l'accademia era quadriennale con un'impostazione che era sostanzialmente abbastanza scolastica perché si dovevano fare nei quattro anni più o meno dalle archeologie ai giorni nostri però si capisce poi il senso di Sato di dire mettiamo le discipline di arte contemporanea di estetica dei nuovi materiali perché c'era un ordinamento veramente molto cioè invecchiadissimo no infatti io studiando con un po' più di attenzione avendo potuto cioè con l'accesso all'archivio effettivamente sono stati degli anni straordinari perché erano sì poi vi aggiungo gli altri colleghi allora quindi abbiamo visto la Monferini docente ordinaria poi c'era c'era un'altra docente di nuovo ambiente romano Lorenza Trucchi Lorenza Trucchi insegnava storia dell'arte contemporanea sempre come corso speciale correnti artistiche ed avanguardie anche lei giudicata dalla commissione sempre composta Sadum Calvesi e dopo Sadum Monferini e comunque i suoi titoli c'è anche lei c'è un lunghissimo curriculum e no la commissione Sadum Calvesi Sadum Volpi Orlandini sì le commissioni beh era sì allora quindi Lorenza quindi Monferini Lorenza Trucchi Giorgio De Marchis più in generale Antonio Calenda sì perché Sadum io ho capito questo Sadum non venendo anche proprio dalle accademie cioè non essendo un docente dell'accademia ha avuto grande libertà all'inizio perché anche localmente c'è stata una grande disponibilità e lui ha potuto avere una libertà che in altri contesti nessun direttore ha perché ci sono tutta una serie di graduatori nazionali da cui tu non puoi scegliere diciamo la verità non si possono scegliere spesso in base diciamo alle esigenze dell'accademia lui l'ha potuto fare inventandosi questi corsi speciali allora c'è stato Calenda fino al 73 che insegnava regia e storia dello spettacolo Antonio Arbasino Alberto Arbasino dal 72 al 74 vi do non voglio essere noiosa però so dei dati perché sono proprio gli anni in contemporanea di De Marchis in più spesso vengono citati questi nuovi ma così in maniera un po' approssimativa quindi Arbasino dal 72 al 74 letteratura italiana e poi nel 74 storia dello spettacolo Carmelo Bene dal 71 al 73 elementi di regia Silvano Bussotti che abbiamo anche ricordato recentemente sul nostro sito perché è morto da pochissimo dal 71 al 74 storia della musica non vi faccio tutto l'elenco però sì nomi importanti che poi credo che cambiò nel frattempo alla seconda era degli anni 70 anche il modo di regolamento dei docenti dell'accademia e quindi poi Sadun muore nel 74 ci sono stati anche dei problemi generali allora però torniamo anche a Bonito Oliva perché Bonito Oliva è insegnato dal 69 quindi fino al 71 estetica e avanguardia poetica attuale e comunque anche lui è passato per la commissione di Saduno e Calvese allora volevo solo ricordare che nel 68 nella famosa mostra del teatro delle mostre alla galleria della tartaruga Bonito Oliva collaborò con Calvese scrivendo le titascalie nel catalogo no sei una battuta no scherzo comunque simpaticissimo quindi siamo nel 70 era una battuta quella della didascalia perché poi come sapete ovviamente i percorsi critici sono stati ben diversi quindi quando lui presenta i titoli Bonito Oliva ha titoli qui conservati di recensioni e presentazioni perché solo nel 70 lui curerà la prima famosa mostra cioè Amore mio a Montepulciano dei mesi appunto nell'estate del 70 con cui inizia anche la sua carriera diciamo un po' così e a pochi mesi alla fine a novembre del 70 la famosa mostra Vitalità del negativo nell'arte italiana 60-70 esatto con la famosissima con l'allestimento di Piero Sartogo docente dell'Accademia che insegnava plastica no va bene io parlo non lo so questo no dico che appunto no perché così capiamo però la relazione anche cioè sogliani iniziali di attività di Bonito Oliva quindi anche proprio di grande generosità espansione esatto e quindi queste erano le mosse del 70 di Bonito Oliva poi ci sono tutte le altre tutta la sua lunghissima carriera però vi dico di Bonito Oliva perché ci sono due cose importanti uno che c'è un programma l'unico programma che per il momento ho trovato è di Bonito Oliva e ci può aiutare anche per De Marchis e in più c'è scritto l'esame di estetica e quello di avanguardia è assolutamente facoltativo un'idea geniale cioè quello di fare lezioni per fare lezioni e gli studenti sceglievano se fare l'esame quindi io penso che il ministero abbia avuto qualche perplessità sul fatto di non fare gli esami dei corsi speciali no però sì però non era sbagliato perché tu no responsabilizzi in questo modo lo studente che capisce che tu offri delle lezioni un'attività didattica importante non solo finalizzata l'esame comunque il programma allora quindi siamo nell'anno 70-71 il corso parte dal futurismo si svolge attraverso un'analisi critico estetica ideologica di tutti i manifesti futuristi ovviamente l'analisi comprende continui rimandi a campi di altre discipline come filosofia psicanalisi psicologia movimenti politici ideologici storia movimenti d'avanguardia culturale quindi questo è il programma scritto a mano di Bonedoliva c'è un altro programma dello stesso anno cioè dell'anno accademico 70-71 che è di Paolo Scheggi Paolo Scheggi insegnava decorazione ha insegnato a me solo un anno perché muore nel giugno del 71 quindi e poi la sua cattedra sarà Gino Marotta come docente dell'accademia che tra l'altro ha avuto una lunga attività sia come docente che anche come direttore dell'accademia non vi faccio la lista di tutti i direttori semplicemente stato un direttore poi Mario Ceroli è stato direttore in questi anni così di cui stiamo parlando poi Marotta e tanti altri allora Scheggi dice nel quadro generale dell'attività didattica che si va impostando all'accademia e con particolare riferimento all'esigenza di unitarietà problematica che si è voluto dare col corso monografico sul futurismo la scuola di decorazione pittorica intende assumere fasi di duplicità sintattica complementare e dialettica quindi sembra di capire sono due programmi di due materie completamente diverse quindi estetica e poetiche attuali d'avanguardia e decorazione incentrate sul futurismo quindi mi sembra almeno di capire che c'era l'idea c'è stata l'idea di lavorare con più scuole sulla tematica del futurismo quindi questo mi fa pensare visto che siamo nel 71 De Marchis stava organizzando e pensando la mostra di balla del 72 sia a Roma che a Parigi che forse anche le sue lezioni di metodologia storica probabilmente fossero legate a tematiche del futurismo anzi secondo me probabilmente è stato lui io ho idea che io posso pensare ipotizzare che De Marchis ha parlato probabilmente anche con i suoi colleghi con Sadun pensando di no ok sì 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 72 no sì sì Sì. Vabbè. Esatto, quindi io posso ipotizzare che proprio perché De Marchis era in quei mesi, perché parliamo dello stesso periodo impegnato nella realizzazione della mostra che questa tematica comune, perché non mi risulta che Bonito Oliva in quegli anni avesse mai studiato il futurismo. Io parlo solo del futurismo, quindi secondo me è De Marchis che probabilmente consiglia questa tematica comune. Però finisco dicendo che questa attenzione al futurismo invece è molto presente nella storia dell'Accademia delle Belle Arti dell'Aquila perché pochi anni dopo, cioè quando inizierà Fabio Mauri a insegnare estetica, quindi siamo nell'anno accademico 1979-80, l'Accademia fa una cosa simile, cioè gran parte dei corsi sono convogliati nella realizzazione del famosissima Gran Serata Futurista che venne realizzata al Teatro Comunale dell'Aquila nel giugno 1980, quindi tutta l'Accademia contribuì a tutta la scenografia, storia dell'arte, pittura che facevano le copie dei dipinti futuristi, scultura, quindi mi piace pensare che c'è almeno nei primi dieci anni questo tema del futurismo che aleggia in questa Accademia. Come no? Certo, credo sia del 67. Sì, io adesso ho visto, diciamo che è stato per me molto interessante, potrete accedere all'archivio dell'Accademia relativa a De Marchis, però veramente abbiamo un archivio che io sono convinta ci darà delle grandi sorprese e soddisfazioni. E ringrazio di nuovo le curatrici per aver pensato questa giornata realizzata, e la fondazione è anche un modo per lavorare insieme in una città che mi sembra sia in un momento anche di nuovo in positiva, è ricostruita in gran parte e quindi mi auguro che le istituzioni, anche l'università, le grandi istituzioni della città possano collaborare ed è molto importante che questi dati vengano poi pubblicati, come mi auguro saranno pubblicati dagli interventi del convegno, perché così è patrimonio di tutti. Adesso, come sapete, pure nelle mostre c'è la cattivissima abitudine di fare dei cataloghi dove non c'è una scheda, non c'è niente, non servono a niente, ci sono le foto grandissime, se ci sono dei testi, sono due cartelle perché pensano che poi il lettore medio gli viene la crisi serica, non possa continuare a leggere, quindi sono completamente inutili, quindi cerchiamo nel piccolo di fare qualcosa. Sì, però la carta, perché io mi chiedo poi, tra dieci anni, non lo dico proprio anche da non esperta informatica, cioè tra dieci anni, quindici anni, la cosa che è stata messa in rete dall'Accademia adesso, la ritroverò? Secondo me no, io penso di no. Grazie. Grazie. No, adesso, no, ma che fai? No, no, scusa, adesso. No, volevo solo dire una cosa, a proposito di archivi personale, solo una cosa, cioè volevo solo dire una cosa personale, il famoso archivio bioecolografico della Diam, cartaceo, meraviglioso, senti, vabbè, guarda, che sarà un vecchietto, però io ce lo ricordo fantastico, ma quello era, però è perfetto, c'è tutto, no, c'è tutto, tutto, tutte, tutte le recensioni, tutto, meraviglioso. Grazie Maria, grazie. Ecco, abbiamo la dottoressa Livia Velani, che è stata funzionaria della Galleria Nazionale d'Arte Moderna, amica e collaboratrice di Giorgio De Marchis. Ora ci racconterà tutto. Caro Giorgio, non ti potrò mai dimenticare, questo è il titolo del suo intervento. Quindi, le do la parola. Dunque, io grazie, non ripeto quello che hanno già detto tutti quanti, ma ringrazio tutti voi, giovani, che mi avete dato questo momento di ripasso della mia vita e me l'avete fatta diventare veramente bella, perché è stata molto faticosa, è molto difficile. Tutto questo che abbiamo, che hanno detto le mie amiche e colleghe, la di Berardino, con cui abbiamo dei ricordi così affettuosi della Galleria, perché in fondo era un nostro spazio di rifugio. E quindi vi ringrazio a tutti di avermi portato in questa bellissima giornata a rivedere l'Aquila, così tanto amata da Giorgio. Giorgio difendeva il suo essere abruzzese, come ha detto, non mi ricordo più chi, ah sì, la Palmieri, questa sua nobiltà, che era infatti la sua fierezza di cultura. E queste ultime cose con cui abbiamo scherzato con Maria danno il segno di quello che è successo, cioè che Giorgio in fondo era il grande studioso e quello che stava cercando di applicare è il sistema antico di studio dell'arte antica, quello che ci ripeteva sempre noi, come tu ti applichi verso l'arte antica, ti devi applicare di fronte anche a un pezzo di Pascali e devi pensarlo come oggetto. E lo devi mettere lì e cominci a dire, dunque un quadro che cos'è? Dunque è una tela tirata su quattro pezzi di legno e ti faceva tutta questa lezione che improvvisamente ti distaccava dall'opera d'arte, da questa estasi, da dire quanto è bello, quanto è, è a guardare l'azione dell'artista. Quando lui in una di queste frasi che io ho raccolto anch'io, perché bisogna ripetere queste frasi di Giorgio perché sono eccezionali, dice, l'artista non parla, quando dice, ma tutto quello che dicono i critici, pensate che l'artista l'ha pensato? No, ma come niente, perché l'artista parla con le mani, no? Come mio, non mi posso dimenticare, Fellini quando lo intervistavano sui suoi film, diceva, basta, basta, perché io parlo col film, non mi domandate tutto. Allora, poi, in base a quello che bene la Di Berardino ha messo in luce, che io non mi ricordavo che era... No, sempre la Palmieri è stata, quando hai detto il finale è che vengono chiuse le porte e non capisco perché la galleria è chiusa. E anche lì è la solita storia del ministero che ti impedisce, no? Il cattivo genitore che se tu sei entusiasta, sei bravo, stai cominciando a stare nei tempi, perché praticamente Giorgio stava nei tempi. E gli viene quella chiusura dei portoni, io non me la ricordavo, ma è chiaramente un cavillo burocratico creato per impedire lì di far tutto. Brava. Infatti era così, povero Giorgio, che cadeva a stecchito quando io telefonavo alle zie, e dico, non posso parlare con Giorgio? No, è tornato, però è caduto, addormentato, no? Perché erano lotte continuate perché lui voleva renderli come stanno diventando adesso. Era avanti nei tempi lui. E allora vi vorrei leggere, anche se è noioso che leggere, però riprende il discorso che avete fatto tutti, e che è il mio ricordo personale quando Giorgio se ne andò dalla galleria, io buttai giù questo pezzettino. Caro Giorgio, non ti potrò mai dimenticare. Allora, scusate, vedo un malvuccio. Ecco, entrare a lavorare da stagista, tra virgolette, come si direbbe oggi, ma sempre mai pagata, o pochissimo, con Giorgio De Marchis, per me è stato il momento più bello della vita e della Galleria Nazionale stessa, dove lui, tra la fine degli anni Sessanta e gli inizi del Settanta, fu ispettore capo del settore dell'arte moderna. puoi poi diventarne il sovrintendente moderno, attivissimo, e di quelli che furono gli anni più vivi della cultura, seppe tradurre tutti gli effetti in una positiva attività... Scusate, mi sono dimenticata di portare gli occhiali da vista. Vai. Ma non so se ci... Perché io ho degli occhi... Ah, beh, zitta. Allora, dunque, dove stavo? Soprintendenti di moderne attivisti e di quelli che furono gli anni più vivi della cultura, seppe tradurre tutti gli effetti in una positiva attività del museo che divenne per tutti noi giovani luogo di divertimento e di apprendistato. Uomo di raro ingegno, sapeva, con la sua verve tutta particolare, instillarti l'amore per il lavoro, che doveva essere teso ad individuare certezze con un impegno costante di ricerca su dati riscontrabili in un campo vago e molto fluido come quello dell'arte. Suo estremo insegnamento fu quello di agire severamente, anche in un settore, quello dell'arte contemporanea, considerato, specie in Italia, aleatorio e inutile, per arrivare a trattarla con la stessa cribia dell'arte antica, attraverso un attento vaglio incrociato di corrispondenze, accertamenti bibliografici, applicandole un'attitudine archivistica e filologica. Infatti lui è un filologo, come giustamente è stato ripetuto. Considerava alla base della verificità dei dati i documenti reperiti. Era molto importante per lui il documento. Per esempio, le prime uscite in mostra delle opere, secondo il principio, quod non est in actis, non est in mundo. E lo ripeteva in continuazione. Aveva spiegato la normale di Pisa e tutte queste cose le avete già detto, per poi specializzarsi alla Sorbonne e aveva preso da questi studi il rigore dell'analisi. Attualmente vedo lavorare così solo gli anglosassoni, come ho potuto constatare nella cura da me dedicata alla mostra di sei tomboli nella Galilea Nazionale d'Arte Moderna recentemente. Uomo, protervo e testardo, come solo un nobile di alto ingegno aquilano poteva essere, sapeva imprimere un tale humor alle sue dissertazioni che ognuna di noi era pronta, come una giovanna d'arco, a morire per lui. Poi faccio un piccolo... è così che adesso, visitando a Venezia, in occasione della 55esima biennale, la retrospettiva dedicata ad Anthony Caro, al museo a corrermi, corre il pensiero a questi inizi, dove appunto si vagliava l'attualità che lo scultore inglese impersonava in quegli anni. Mi aveva colpito per la sua sovrintendente novità e rompeva gli schema tradizionali della scultura. E poi lì attacco tutto un pezzo sulla scultura inglese che purtroppo non ho pubblicato perché in fondo rileggendolo adesso dico però potevo pure pubblicarlo. Poi, per quello che riguarda il Giappone, vabbè, io ho portato... Mi è capitato tra le mani una fotografia di me, Giorgio, in Giappone e mi piacerebbe magari che la fotocopiare perché non ve la voglio lasciare e poi... Ah, già, scannerizzare. Poi la mostra... che questo è un doppione, ve lo posso lasciare, è tutto in giapponese, ma è la mostra che lui mi chiese quando io diventai ormai di ruolo e quindi direttrice raccolta manzù e con grande fierezza lui mi risipitava a dire Bambinè, te l'ho fatta fare in sette musei prefetturali e che vuol dire facevo io? Ma è come cose di Stato, capisci? E girammo tutto il Giappone colui che mi diceva Bambinè, ma t'hanno preso per un uomo, ma perché facevo io? Ma perché ti portano le valigie? Beh, ma qua in Giappone sono le donne che portano le valigie? Emma ha fatto girare il Giappone ridendo tutto il tempo e questo che non so, ma voi mi... forse io ho cercato male, ma mi sembra che voi nell'archivio, anzi, di Berardino ce l'avete? Ah, bene. Voi ce l'avete? Io però questa è l'unica copia che ho. Fanno scalerizzare. Fanno scalerizzare. E vabbè, poi... Perché lo so, questo è un'attivazione. Beh sì, è unico. Io ho visto che in galleria non sanno niente, poi vabbè, c'è stato pure il Covid, quindi figura di andare a fare le ricerche in galleria. c'è complicatissimo. Sì. Io sono andata, ma... Ti dico, io ci sono andata anche al periodo del Covid, per cui era un buco nero, una caverna nera dove compariva la paura radioelettrice che con mascherine, ah, speriamo che seguiti questo Covid, così non entra nessuno. Questo è il tema regolare. Non l'avriamo questo? Non l'avriamo? No. Che riguarda quello? No, in sintesi, ma adesso io non mi voglio dilungare perché stiamo, prima cosa, vicini all'interruzione della colazione, del pranzo, e quindi tutti siete del periodo. Ma sì, ma tranquilli. No, però c'era questa cosa, appunto, quello che dicevate tutte quante, che i due decenni di eventi artistici in Italia, da 50 e 70, dove lui di nuovo mi ha calappiato per fare la ricercatrice dei documenti, che è un lavoro che mi ha procurato quasi un esaurimento nervoso, però interessantissimo per come già nel 70 lui aveva questa capacità visiva di, come si può dire, incastonare l'arte contemporanea, perché era difficilissimo poterla dargli una spiegazione, un contenuto, no? Si è inventato i regesti, infatti, si è inventato i regesti, e infatti io dico la mostra si impegna su due coordinate, perché lui, ecco, io ho riletto il suo testo, l'ho sintetizzato, e lui lo impegna su due coordinate, quella storica e quella della novità. Allora, per storia lui seguiva la coordinata cronologica, ma non di schieramenti artistici categoriali, cioè la coordinata cronologica con il carattere storico del presente, quindi vedere il presente come ci insegnava a vedere il quadro, a vedere il presente come un fatto storico, già storico, ma non sul passato, sul presente, che è difficilissimo. E poi appunto, questo è l'incipit, poi dice, gli anni 50 erano molto diversi dagli anni 60 e lo sappiamo bene, differenza in ciò che c'è di nuovo, andava cercando, non nella ripetitività, cioè quello esce fuori in quel momento, poi ha fatto questo, no, solo quando emerge e per lui emerge solo nella prima apparizione pubblica, quindi il mio lavoro non solo era di trovare tutti i cataloghi, ma se per esempio Schifano era uscito lì, poi dopo non gli interessava più, era quello perché come diceva lui solo l'apparizione pubblica modifica, deve essere un fatto che modifichi la cultura preesistente, cioè deve essere una vera novità, non è un quindi non singola avventura dell'artista, quella non ci interessa, poi lui dice l'esperienza artistica e cultura solo quando raggiunge la società cui è destinata, arricchendo e modificando la cultura preesistente, questo è un pensiero bellissimo che io, scusate le dibagazioni perché io ormai mi diverto e quindi non seguo nessun tracciato serioso, ieri mi è capitato di, mi è arrivato il catalogo di mondo convenienza che non so se ve lo conoscete il supermarket e sono rimasta stupita perché i miei nipoti amano molto i mobili lì e ho detto madonna e ho capito perché perché il mondo convenienza ormai è tutto astratto è tutto albara alto cioè hai capito come quello che lui dice ma lui che cosa dice l'esperienza artistica e cultura solo quando raggiunge la società quindi mondo convenienza la società gli è arrivato inconsapevolmente però è arrivato e ci è voluto però perché siamo nel 2021 poi chi altro dice allora poi si mise questo cappello 48-52 quindi io lo dovetti fare non solo il 50-70 ma anche i fatti 48-52 perché è la parte iniziale della mostra dove c'è il famoso scontro astrattismo e realismo che ormai se ne è parlato tanto quindi tutti voi sapete ma all'epoca era già nuovo rianalizzarlo e a proposito sempre Palmieri che parla scusa Olivieri io non so che malattia sia ma insomma confondo i nomi hai detto sì la cosa della tartaruga eccetera ma ancora prima c'è stata questa cosa che mi illuminò Giorgio e che adesso dei giovani studiosi hanno tirato fuori alla Piantica era la famosa galleria della Piantica fatta da Topassi Alliata insieme aiutami Emilio Villa quello è stato ancora un altro fulgore che poi quando voi dite che lui dice quando c'è l'invasione americana della Biennale del 64 ma in realtà io approfondendo questo periodo ho visto che l'invasione americana era già avvenuta con la galleria la Piantica perché noi ci dimentichiamo che gli americani erano i vincitori e che nella storia i vincitori vengono ti depredano e ti impongono la loro cultura perché adesso i ragazzi più bravi che hanno stato sono quelli che sono stati in America perché entrano in pieno in quella cultura che noi ancora fatica assimiliamo allora poi naturalmente come limite geografico aveva messo i fatti avvenuti in Italia però alla fine di ogni anno dovevamo e ho inserito i fatti internazionali anche quelli i più salienti non tutti quelli che consideravamo e lì chiaramente erano loro che mi guidavano perché io ero l'ammanuense anzi da loro ho entrato tantissimo facendo questo lavoro quindi va bene poi il mutamento per lo spettatore per l'incertezza di non trovarsi più di fronte a un'opera d'arte ecco l'altra caratteristica di Giorgio è quello che comincia a fatica a cercare di spiegare allo stupore generale perché noi eravamo veramente come degli remiti della follia perché ci consideravano anche in famiglia mi dicevano ma che ci c'era che ti piace quei bughi di Fontana quei sacchi di fu non so se voi ve lo ricordate ma insomma la Bucarelli fu ebbe un'interpellanza parlamentare per i sacchi di Bu e infatti lui già qui a Prato dice questa frase scusi ma questa è arte che veniva sempre domandata e lui suggerisce come risposta no bisogna solo rispondere no 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 stia tranquillo non lo è così lui non si sente gabbato e invece poi segue il quadro diventa luogo di ricerca e di determinazione di un nuovo sapere concetto difficile e come esempio mette questo Picasso che faceva le donne con il duo o tre nasi gli fu chiesto ma scusi ma queste che donne sono e lui gli risponde io faccio quadri non faccio donne io ripingo non fattorisco ci sono queste buttate di Giorgio che sono incredibili quindi si cerca una nuova armonia tra forma e conoscenza dice Giorgio per cominciare a entrare in un'altra cultura che è completamente nuova oh vabbè allora riparte con l'arte astratta dicendo nell'altra astratta era successo che lo spazio viene inventato non più rappresentato e poi cita l'aneddoto di Kandinsky che mettendo la rovescia cioè per caso un quadro andò la rovescia e Kandinsky disse però accidenti funziona benissimo anche con lì e quindi già rotto tutto lo schema e per Mondria anche lui dice della grandezza rivoluzionaria di Masaccio e quindi che cos'era l'intento di quest'arte in quel momento che corrisponde a tutto quello che voi avete detto anche studiato negli attivi questo stupore tuo di fronte a questa modernità di pensiero di questi docenti è maldificare le abitudini visive della società allora poi fa la famosa battuta di tutti che dicono ma non si capisce nulla e lui dice ma perché tu i logaritmi li capisci eppure lì dietro tantissimo oppure l'altra frase questa appunto ma questo te lo metteresti in casa che io purtroppo a questa età mi sono trovata a dirmi però questo mi piacerebbe però a casa non lo metteremo atto d'apertura e poi si dice i dadaisti hanno rotto tutto invece niente hanno aperto perché hanno aperto un nuovo orizzonte di spedenze conoscitive poi vabbè in 1948 l'Italia ha il neocubismo l'astrattismo venturiano che è diverso dall'astrattismo classico cita il realismo della famosa mostra di De Michele fa onore diciamo anche ai nemici perché dice la direttiva di Argan e Bucarelli è stata questa no il combattere il realismo è andare tutto verso l'astrattismo per quello che ti dico che poi la mostra di Bonito Oliva quella che hai citato sotto come si chiamava l'immagine del negativo vitalità del negativo rompe perché Bonito con il suo geniaccio distruttivo apre tutta l'altra cultura alla quale noi eravamo attaccati come delle monache infatti io mi ricordo un'indegnazione che dice ma che mostraccia cioè è sempre un continuo andare oltre rompendo poi c'è la famosa benaria del 52 dove appunto c'è lo sconto definitivo tra astrattismo e realismo poi c'è il pilone dell'informale e tutto questo fatto a monte di successive trasformazioni del manufatto artistico ecco qua comincia lui a parlare del manufatto artistico queste sono frasi virgolettate e poi c'è appunto scelta subito dopo la mostra del 50 di Tapogrossi di queste superfici Comiso non me lo ricordavo gli manda i disegni di una nipotina e gli dice lo saprebbe fare anche un bambino e come dice Giorgio inevitabilmente Comiso dà il vero significato all'opera di Tapogrossi che è un logos iniziale logos non è un segno ma un continuum segno segnico una superficie quindi la modificazione del manufatto artistico tradizionale che avviene con Capogrossi con Fontana con i concetti spaziali spazio-luce astrattismo superato in una diversa dimensione che è il quadro stesso diventato fluido questo è il pensiero suo e siamo negli anni 70 e Calvezzi che diciamo è stato considerato il grande critico del contemporaneo non ha questa capacità di sintesi e di visione quella che anche hai dato che è nel suo occhio che è nella citazione che hai fatto di Marcello Venturoli che non pensavo che fosse così intelligente perché io ero amica del figlio che ne parlava sempre male e invece lo descrive in un modo perfetto perfetto esatto e poi questo minotauro lui ha quell'occhio del minotauro che vede oltre e sintetizza che alvei si complica c'era Burri che ogni volta rideva dice ma che sta a dire dice ma scusa annotarsi l'hai fatti tutti neri e beh perché sui giornali tutti parlavano di annotarsi allora io a me mi è venuto infatti poi lui arriva a dire la modificazione appunto di Fontana ma l'artista avrà mai pensato di fare quello che dicono i critici la risposta è no gli artisti formulano il pensiero con le mani e non con le parole e infatti arriva a Burri e dice infatti prima dice la genesi dei Burri può essere cercata nella sua attività di ceramista però l'illuminazione dei sacchi di Burri che poi sapete che c'è stato che è stato Fontana ha visto un piccolo sacco di Burri e ha avuto l'idea l'illuminazione dei sacchi di Burri poi ritorna in campo la tela intelata però ecco qua lo dice di fronte al continuum semico di Capogrossi al continuum spaziale di Fontana di cui la tela è lo strumento rivelatore i sacchi di Burri sono drammaticamente presenti come cose e queste parole che vi ho citato di Burri proprio che mi ha detto di persona lui ha sentito benissimo la poetica di Burri insomma era veramente un uomo eccezionale che come tutti gli uomini eccezionali non è solo in Italia è proprio per l'ordine forse civile di vivere serenamente vengono uccisi Giorgio è stato ucciso questa famosa cosa che tu hai citato è stato l'inizio della sua poi decide di andare in Giappone brillantemente riparte intelligente fa tutto quello che fa a chi poi chieda cosa c'è di bello in un sacco di Burri si può rispondere ma cosa c'è di bello in una crocefissione per Burri tutta la realtà è formulata lo spazio del quadro come oggetto che è lo spazio in cui viviamo poi parla appunto di assemblage di corda decollage di rotella e questa è una notazione che non avevo visto mai Tuombli torna alla pittura ma come trascrizione segnica di un'ansiosa comunicazione di vita ed è verissimo l'ho proprio approfondito moltissimo e però torna alla pittura poi c'è Manzoni nel 58 che non sono più oggetti trovati ma inventati le linee il mondo dei segni è il mondo della realtà il colore imbeve la tela come in lo savio e poi Castellani con le tele in centinate che spongono nello spazio poi vabbè cita anche 59-60 gruppo T gruppo N e giustamente mette in risalto che in particolare il gruppo T sono i primi esperimenti ambientali cioè comincia la nascita dell'ambiente che come avete tutti citato nel 67 a Poligno è Giorgio il primo che fa questa mostra e noi tutti andammo in precisione di corsa c'era pure Paolo Venturoli che capeggiava a omaggiare questa invenzione poi va bene nel 61 il premio Lissoni con Paolini che si inventa della centinata l'arte concettuale di nuovo la promozione di una nuova realtà dell'esperienza non più del quadro poi il 59-60 gli alfabeti di Cunellis che precede la pop ha ragione perché è l'inizio di un'oggettualizzazione dell'immagine che lui fa con gli stampini anche cantando e c'è poi l'environment e quindi Roma arte pop new yorkese Pasquali lo definisce un astrofuggente adesso poi non ho preso tutte le riconsatrazioni e ah c'è questa notazione tra poco carina dei cannoni che si dice non per niente erano lui li intendeva come un manufatto un oggetto e infatti si fa ritrarre come tutto vestito da soldato come un pettureo dell'ottocento vicino al cavalletto con un pennello è vero non ci avevo mai pensato e poi finiamo con i materiali costruiscono la realtà ecco perché noi ci costringeva a guardare l'oggetto e i materiali poi l'happening il mare ah altra notazione sul mare di Pasquali opera straordinaria che non esisteva è vero perché la scatoli tutta l'acqua va via l'arte così non è più un oggetto ma un'attività è quello che facciamo che cambia il significato e fa l'esempio dei cavalli di Cunellis può farlo a chiunque dice De Marchis quindi l'arte questo è il messaggio invece di vedere la retta del sapone alla tv ognuno di noi lo potrebbe fare finito nuovo non vuol dire falso questo è il finale del suo testo perché appunto il sospetto è sempre e poi ultima buffonata mentre stavo preparando con la vostra la locandina mi cade in mano questi marmi di Torlonia guardate se non è il profilo di Giorgio pazzesco sembra quello che avete fatto voi con questo vi ringrazio e finisco allora qui ti rilascio se voi qui c'è l'insetto grazie Livia allora vogliamo chiudere per questa mattina e andiamo a mangiare qualcosa e ci ritroviamo dopo il pranzo e così riprendiamo il lavoro che abbiamo incontrato io e Livia De Maris in un albergo a Firenze con l'occasione di una biennale la mattina noi facciamo il domani lo prezzavamo ma che bello che ti è piaciuto mi rovinavamo la colazione però lui non è che si taceva mollava la colazione per rispondere stava ancora bene Paolo Giorgio perché poi invece lo vedi che si guidava andare alla biennale ma non ce la faceva più no dicevo che se fai le fotocopie questo è l'inserto in italiano che avevamo fatto il sarto giapponese là però mi raccomando il catalogo questo giapponese te lo posso lasciare e ho la copia questi due sono importanti adesso parlo con il tecnico così però ce lo vogliono oggi no oddio sarebbe ottimale perché vi conosco che poi ve ne dimenticate forse è spento è acceso sì così va bene sì sono io sì lei presenta bentornati buon pomeriggio riprendiamo i lavori per di questa giornata di studi e diamo la parola al professore Giuseppe Di Natale che è il docente di arte contemporanea dell'università degli studi dell'Aquila che ci parlerà come vedete degli anni 60 di Giorgio e di Pino Pascali grazie allora grazie voglio intanto ringraziare in maniera particolare Diana e Barbara perché appunto l'incontro con Giorgio De Marchis è avvenuto attraverso di loro io Giorgio De Marchis non l'ho conosciuto personalmente non ho avuto questa fortuna quindi appunto lo guarderò insomma un po' da lettore con un occhio diciamo esterno perché gli anni 60 di Giorgio De Marchis e Pino Pascali perché rileggendo un po' quello che è stato l'intervento che De Marchis ha pubblicato nell'enciclopedia della la storia dell'arte italiana si capisce a un certo punto che il il discorso si fa centrale proprio su Pascali quindi ne parla Giorgio De Marchis come lo cito proprio il frutto maturo degli anni 60 quindi dicevo appunto quando Federico Zeri chiese a Giorgio De Marchis di occuparsi di questo saggio di chiusura del settimo volume dedicato al novecento per la grande enciclopedia di storia dell'arte pubblicata dai naudi come sapete insomma in diversi volumi e lungo insomma l'arco di un ventennio il titolo che Giorgio De Marchis decise di dargli fu l'arte in Italia dopo la seconda guerra mondiale allora nelle 72 pagine che compongono appunto questo saggio da quello che ho letto da quello che ho potuto capire De Marchis non era solito dilungarsi nei propri testi critici soprattutto anzi la sua era una scrittura abbastanza concisa secca che andava proprio dritta al punto dicevo il critico delineava appunto con un atteggiamento che era abbastanza super partes super partes di natura Giorgio De Marchis non lo era né si sarebbe prestato ad esserlo in un'occasione così istituzionale come quella appunto dell'eciclopedia in Audi quelli che a suo parere appunto erano stati gli episodi salienti dell'arte italiana dal 1945 quindi lui delinea proprio i fatti accaduti dal 1945 alla fine degli anni 60 con una regressione temporale appunto di qualche anno perché lui parte naturalmente dal 42 e giunge fino alla fine degli anni 60 o meglio fino al 1968 anno lui dice appunto della morte di Lucio Fontana Gastone Novelli Ettore Colla e appunto di Pino Pascali l'ultima considerazione sulla struttura di questo saggio è questa che delle 82 immagini che in bianco e nero naturalmente che compongono i due sedicesimi a corredo del testo che riproducevano le opere di 50 artisti ben quattro erano dedicate a Pino Pascali che De Marchis appunto presenta come vi dicevo il frutto maturo degli anni 60 per De Marchis il lavoro di Pascali è di centrale importanza in quanto non solo l'artista avrebbe in qualche modo lui lo dice proprio cita assorbito sviluppato modificato quasi tutte le esperienze che negli anni precedenti avevano contribuito ad allargare l'orizzonte del fare artistico ma e questa è la fine della citazione elemento più interessante non sarebbe mai andato secondo De Marchis alla ricerca di uno stile uno stile considerando diciamo che diciamo lo stile in quanto nel suo essere è proprio materia linguistica secondo De Marchis una materia linguistica che è anche potenzialmente metaforica lui usa proprio questi termini e che egli stesso poteva quindi manipolare in qualche modo a proprio piacimento senza naturalmente negare perché non lo fa le fonti visive alle quali inevitabilmente guardando attorno a sé egli poteva attingere quindi Burri Colla Yves Klein Manzoni Pasquali teneva diciamo come punto di partenza queste diciamo lezioni per nuove e vive invenzioni nel 1959 naturalmente si diploma all'Accademia di Belle Arti di Roma vive i primi anni soprattutto lavorando come nel campo appunto della pubblicità ciò che poi verrà fuori dalle sue prime opere è come scenografo televisivo anche questo credo che venga fuori nel corso di tutta la breve insomma ma vivace avventura artistica di Pino Pasquali e esordisce appunto sulla scena nel 1965 con nella galleria romana appunto la tartaruga in piazza del Popolo 3 nel gennaio del 65 dicevo con in cui espone alcune opere tra cui pezzi di donna che sono in qualche modo secondo quello che dice De Marchis particolari anatomici ingranditi dipinti a smalto che escono dalla tela sagomata come in un primo piano quindi ancora una volta c'è un riferimento in qualche modo è una una sorta di di lettura molto prossima a quella della del cinema della televisione dell'utilizzo proprio del primo piano per far emergere i dettagli naturalmente per De Marchis il lavoro di Pascali si distacca da tutto ciò che è pop art lui dice perché assolutamente non è così che i materiali che Pascali utilizza sono diciamo per lui la materia prima di un'operazione metaforica creativa quindi è questo quello che lo allontanerebbe dalla pop art quindi niente a che fare con ciò che De Marchis definisce lo cito lo cito da un suo scritto sotto pop simil pop pseudo pop lui parla appunto di queste di queste categorie escludendo la diciamo la partecipazione di Pascali è interessante perché lo sguardo diciamo che Pascali ha sull'oggetto e quindi sugli oggetti è uno sguardo che lo avvicina in qualche modo lo allontana dagli artisti della sua generazione e lo avvicina in maniera quasi come dire nuova retrospettiva ai primi inventori dell'oggetto quando appunto realizza le sue armi con le quali appunto vedete si fa fotografare in maniera assolutamente ludica lui realizza appunto queste armi assemblando degli oggetti assolutamente di uso comune e uniformandoli attraverso il colore quindi da lontano questi oggetti sembrano appunto dei cannoni sembrano delle delle armi insomma degli aeroplani eccetera ma quando ci si avvicina si riconosce proprio l'oggetto si riconosce il singolo pezzo del diciamo del reificato in qualche modo c'è un'opera nello specifico queste sono vedete alcune delle opere esposte tutto il materiale che vedete qui è materiale che è custodito appunto alla fondazione Giorgio De Marchis e che appunto grazie a Diana Di Bernardino e Barbara Olivieri ho potuto insomma in qualche modo acquisire vedete si fa in qualche modo ironicamente è molto ironico il lavoro di di Pascali e De Marchis lo intuisce subito immediatamente si fa fotografare quindi insieme alle sue opere in pose che quasi appunto da quasi da attore quasi attoriale c'è un'opera che mi ha fatto riflettere sulla sua vicinanza appunto sull'importanza che ha l'oggetto in Pascali e su come in qualche modo lo stesso Pascali abbia a un certo punto deciso di rinunciare di distruggere l'opera che vedete qui che si chiama appunto L'Araba Fenice perché perché probabilmente questo non lo so lo dico riflettendoci buttandola lì probabilmente quest'opera ha un chiaro e troppo forte evidente richiamo con la ruota di bicicletta di Duchamp quindi c'è proprio una sorta di filiazione che diventa così evidente che l'artista decide di appunto rinunciare all'opera quindi distruggerla proprio perché appunto non era simulata e non era diciamo era riconoscibile in quanto oggetto sia da lontano che da vicino cosa che invece nelle altre opere non succedeva e c'è un desiderio come dire di ritorno al gusto Duchampiano anche nei ritratti che Pasquali fa di se stesso e di un suo amico che chiama appunto ready made modificati quindi vedete ancora una volta una presentazione del sé diversa rispetto a quella reale ma che comunque ha del divertismo assolutamente ironica e legata appunto all'oggetto naturalmente il gioco Duchampiano di parole avviene anche e viene messo in atto anche nel titolo nei titoli che lo stesso Pasquali dà alle sue opere quindi i bachi da setola sono appunto un gioco di parole che ha molto di Duchampiano pensiamo a Rossella Vie pensiamo ad altre opere appunto di Duchamp e naturalmente molto interessante quello che dice De Marchis la lettura che De Marchis fa dei 32 metri quadrati circa di mare che furono presentati appunto come tutti sapete per la prima volta nella mostra lo spazio dell'immagine De Marchis parla di un'esperienza che aveva la durata nel suo farsi cioè parla di un'opera che si fa nel momento in cui l'artista è presente ma che non ha una durata eterna ma che è destinata ad essere dismessa una volta diciamo finita la mostra che poi questi oggetti siano stati musealizzati è un altro discorso però il punto centrale su cui De Marchis insiste moltissimo è proprio questo cioè opere d'arte che hanno una durata effimera che hanno una durata che si fa nel momento in cui l'artista è presente infatti anche questo suo farsi fotografare davanti alle opere questa sua presenza continua accanto alle opere è proprio un modo per sottolineare questa presenza effimera e questa durata effimera straordinaria modernità naturalmente anche della vedova blu scusate questo è il vino il famoso vino 14 gradi che ha il suo effetto vedova blu vedete ancora una volta lui è quasi in atto performativo è quasi in un atto che sembra uno scherzo un gioco sessuale si pone di fronte alla sua opera così quasi nell'atto di volersi far mangiare probabilmente dalla sua vedova blu che non è una vedova nera naturalmente ma che ricorda lo dicevamo appunto in macchina con Barbara ciò che Louis Bourgeois farà moltissimi anni dopo con il suo ragno gigante ormai onnipresente in molti musei del mondo Pasquali purtroppo muore come sappiamo in un incidente in motocicletta nel 1968 e questa mostra che gli sarebbe stata dedicata appunto con un testo di Argan e che doveva appunto essere itinerante appunto nelle gallerie nelle gallerie Iolas appunto tra New York Milano Parigi Ginevra eccetera non fu diciamo realizzata rimane naturalmente questa splendida locandina anche questa grazie alla fondazione De Marchis acquisita da me con un testo di presentazione di Argan con un testo di presentazione di Argan che si distanzia in maniera assolutamente netta dalla lettura di De Marchis cioè Argan legge Pasquali proprio come in un modo molto freddo e distaccato è come se leggesse è come se imponesse una propria lettura all'opera dell'artista senza capirne realmente il farsi e il come dire il significato lo dice lo dice De Marchis a un certo punto qui mi scatta l'occhiale da vicino perché dice il fatto manuale diventa fondamentale non si tratta però di opere eseguite nello studio e poi esposte ma spesso di una pura attrezzatura che l'artista porta con sé per l'esecuzione sul posto di un'opera di durata effimera l'artista non produce più l'oggetto d'arte ma lo strumento con cui fare arte usando i materiali più disparati l'arte non è solo la temporanea metafora della realtà ma è anche un'esperienza reale in tempo reale quindi Pasquali come proprio diciamo artista del tempo che si fa nel presente della linea del tempo che si fa nel presente naturalmente la chiusa di De Marchis su Pasquali come artista diciamo legato all'arte povera è un po' polemica è un po' polemica perché appunto lui conosce chiaramente la mostra fatta appunto organizzata appunto da la galleria alla vertesca di Genova da Celant arte povera e dice appunto che sostanzialmente l'ultima parte dell'opera di Pasquali e solo l'ultima parte rimane legata all'iniziale idea di arte povera quindi in qualche modo rinnega tutto ciò che viene dopo quella parte iniziale e sottolinea come invece proprio l'arte di Pasquali dell'ultimo Pasquali sia stata diciamo abbia funzionato come detonatore per diciamo la carriera artistica di un altro grande artista che è appunto Yannis Cunellis vi ringrazio naturalmente se avete domande non ci sono sì certo è certo cioè di Roma giusto sì ah no certo questa è il 68 no sì sì Esatto, esatto, sì, sì, sì. Assolutamente, sì, sì, ma credo che proprio la chiave ironica del lavoro di Pascali, la chiave fortemente ironica del lavoro di Pascali, che poi credo che sia, credo, che sia, diciamo, la parte più intelligente che Pascali prende da Duchamp, quella del divertissement, dell'ambiguità, è De Marchis che l'ha capita, gli altri non lo hanno, diciamo, non ne hanno colto l'essenza in maniera così anche sintetica e brillante. Assolutamente, sì. No, ma pensavo che vorresti fare una domanda. No. No, ok. Sì, sì. Assolutamente, sì, certo, certo, certo. Assolutamente. Esatto, esatto, e anche questo è una cosa molto, diciamo, Duchampiana, che poi è stata da Manzoni, no, portata nel secondo dopoguerra. Certo, certo, certo. E poi credo, Giorgio, che con la morte di Pino Pascali, dopo quegli undici giorni di coma, dopo l'incidente in moto al Muro Torto, fa in modo che le opere entrino per donazione dei genitori di Pino, perché Pino Pascali era un figlio unico, e quindi questi due genitori perdono questo unico figlio che gli lascia, che lascia per le gallerie romane, perché Fabio Sargentini era il grande amico di Pino Pascali, no? Vittorio Rubio era il grande amico di Pino Pascali, che lo aveva più volte presentato, e quindi tant'è che Rubio e Sargentini si arrabbiano quando Sandra Pinto cura. Certo, il famoso, il primo, diciamo, lavoro di Pascali. Cura il volume, esatto, esatto, no? Una tragedia, sì. Poi alla fine, il numero di Pino Pascali è stato un po' di me. Eh sì. Esatto. E invece anche lì Giorgio prende e porta dentro in galleria, dicendo a Palma Bucarelli, probabilmente discutendo con lei, ma poi lei comprende perfettamente l'importanza dell'opera di Pascali, e quindi tutto quasi viene acquisito dalla Galleria Nazionale di Arte Moderna. Già. E questo credo che sia... Esatto. Ma non è vero perché poi vedi che gli anni di Pascali sono tante opere in Dio, e l'idea alta, il livello, e il museo è un gioco di parti. Sapete giocare bene, questo è il punto che noi non sappiamo l'opera. Esatto. E poi lo stesso gioco di parti che aveva fatto poco prima Manzoni. Cioè... Esatto. Esatto. Bene. Grazie. Grazie a voi. Grazie. Adesso Barbara Drudi, che ci parlerà della metodologia storico-critica di Giorgio De Marchis negli anni 70, quindi l'opera di Giacomo Balla e Ettore Colla. No, 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 per me è ragione. Eccoci. Allora, grazie a tutti. Naturalmente ringrazio di nuovo. Non so se si possono mettere, Paolo, le mie immagini. Vado con le... Vado avanti. Ecco. Così vado avanti. Ecco. Allora, naturalmente anche per me i miei ringraziamenti vanno soprattutto a Diana e Barbara, che mi hanno permesso di vedere i documenti che appunto sono conservati presso la fondazione e che sono dei documenti preziosissimi, diciamo che io ho avuto modo così di sfogliare, ho preso alcune fotografie, un po' di cose, ma secondo me andrebbe fatto, si potrebbe fare un lavoro molto più approfondito, molto più dettagliato, diciamo, io così ho preparato per questo intervento, però diciamo che secondo me lì c'è una miniera perché sono praticamente tutti gli appunti dattiloscritti che De Marchis fece nella preparazione della mostra su balla del 1971 e sono un papello così, cioè quindi sono dattiloscritti ma con anche correzioni a penna, interventi, quindi diciamo piccole modifiche, eccetera. Ce l'hanno loro nella fondazione, quindi diciamo questo è un patrimonio che appunto andrebbe proprio guardato foglio per foglio. Sì, diciamo che questa parte qui era più dedicata proprio a tutta l'organizzazione della mostra quadro per quadro, tutte le cose, una sorta di quasi diario quotidiano nel quale lui scriveva anche le cose che doveva fare, sentire questo, telefonare a quello, parlare per quel quadro, cioè una cosa ricchissima, una sorta di agenda nella quale peraltro ci sono anche delle affermazioni molto così, nei vostri confronti, nei confronti delle collaboratrici, Livia Velani e Bernardina Sani, allora vai lì, parla con luce, dille così, quello lo deve fare, quello non lo deve fare, una sorta di diktat appunto, quindi insomma una cosa molto sintetico-sbrigativa come un po' appunto una sorta di capitano di nave che impartisce ordini e che deve... Appunto, e quindi comunque è molto interessante perché ovviamente poi lì ci sono tutti i riferimenti alle varie opere da dove vengono, chi è il collezionista, come hanno fatto per prenderle, nonché l'analisi stilistica che poi in parte faceva insieme a voi con la ricostruzione appunto delle... Esatto, esatto, quindi lui poi ha scritto il libro, è uscito nel 77, poi Futurismo da ripensare nel 2007, quindi insomma... Ecco, dunque, fatto questo piccolo preambolo, in realtà questo mio intervento nasce da una telefonata che avemmo con Giorgio De Marchis, perché, sì, insomma varie telefonate, vari scambi diciamo che noi avemmo con Giorgio De Marchis, perché io lo avevo così incrociato a qualche inaugurazione di mostra, eccetera, ma non ho mai avuto un rapporto, diciamo, di conoscenza con lui, anche perché poi quando lui era soprintendente era alla galleria, io ero arrivata alla fine degli anni 80, facevo le schede nell'87-88, così, e c'erano appunto tutti che dicevano, ah, il professor De Marchis con nostalgia, con cose, però io appunto non sapevo che era in Giappone, quindi non così, poi l'ho incontrato negli anni successivi. Comunque ecco, questo mio intervento nasce appunto da queste conversazioni che abbiamo avuto con lui, insieme a Giacomo Marcucci, che è qui con noi, perché coautore insieme a me di questo libro, diciamo, di questo ponderoso volume, che è una ricognizione della rivista Arti Visive, la cui direzione era di Ettore Colla, coadiuvato prima da Dorazio, poi da Emilio Villa, e poi infine da Scialoia, da Toti Scialoia. E quindi, diciamo, in questo nostro lavoro, che è stato appunto un lavoro di poi scansione, scandaglio di ogni numero della rivista, anche messa un po', diciamo, un po', dato un ordine, perché, ahimè, nei libri di storia dell'arte si trovavano poche righe dedicate ad Arti Visive, tranne appunto nel volume dedicato da Giorgio De Marchis a Colla, nel catalogo generale di Colla, che è uscito nel 1972, nel quale invece c'è un approfondimento e ci sono delle notizie molto certe e dettagliate e sicure, non come invece altri, diciamo, brevi accenni alla rivista che sono piuttosto confusi. Quindi parlammo con lui e lui fu assolutamente entusiasta di questo lavoro e ci incoraggiò dicendo, sì, dovete pubblicare, dovete lavorare e, diciamo, il punto focale sul quale noi ci stavamo concentrando era, in particolare, la questione se Colla realizzò mai davvero la mostra di Balla nella Galleria Origine nell'aprile del 51 e quali fossero stati realmente i rapporti tra Colla e Balla, perché di fatto, appunto, benché De Marchis fa quest'analisi, diciamo, parla abbastanza diffusamente della rivista Arti Visive nella monografia su Colla, non affronta mai il problema di quello che Colla pensava di Balla, mentre, diciamo, il rapporto era stato piuttosto intenso, insomma, anche perché, diciamo, la mostra di Balla del 51, se veramente fu fatta, e fu fatta, diciamo, fu la seconda mostra del gruppo Origine, cioè dopo la mostra di apertura fatta nel gennaio del 51, dopo la quale Ballocco lascia il gruppo e quindi rimangono solo, diciamo, i Romani, nell'aprile del 51 viene effettivamente fatta questa mostra omaggio a G. Balla futurista. Allora chiedemmo, appunto, informazioni a De Marchis, il quale disse, ma assolutamente questa cosa io non l'ho mai veramente approfondita, è vero che io ho curato la mostra di Balla, sulla quale abbiamo lavorato moltissimo, è vero che ho curato la monografia su Colla, ma i miei studi non sono mai stati così approfonditi e dettagliati e questo va un po' anche in sintonia con quello che avete detto voi, cioè del fatto che De Marchis non si concentrava mai profondamente su un unico artista, no? Si è occupato di vari artisti, ma dando sempre un po' questa visione più globale, no? Più generale di, appunto, della storia dell'arte di determinati periodi. Quindi lui ci incoraggiò moltissimo a proseguire in questa direzione, quindi però poi, dunque questo successe nel 2008, poco prima che Giorgio De Marchis morisse e quindi in realtà lui non ha mai potuto leggere quello che poi invece noi abbiamo scritto. Quindi questo mio intervento è un po' un piccolo omaggio personale, come se appunto De Marchis potesse oggi in questa giornata... Ecco, non ha potuto vedere l'uscita del libro perché insomma il libro è uscito poi nel 2011, quindi lui non ha potuto leggerlo. Quindi insomma, diciamo, io adesso farò un piccolo percorso delle sue due mostri, cioè della mostra su Balla e del volume su Colla e poi leggerò brevemente quelle che sono state le nostre conclusioni su questo rapporto. Perché naturalmente noi poi abbiamo visto tutta una serie di documenti, abbiamo approfondito, ora non è la sede insomma, per raccontare tutto questo. Sì, esatto. Dunque, come già è stato detto, naturalmente questa connotazione appunto di filologo classico di De Marchis ha connotato tutta la sua metodologia critica, storico-critica. E come appunto già è stato detto, entra nella Galleria Nazionale d'Arte Moderna e intorno agli anni 70, poco prima di realizzare la mostra su Giacomo Balla, aveva curato la mostra su Colla appunto nel 70 e la mostra citata da Livia, cioè due decenni di eventi artistici in Italia. La mostra di Balla si apre il 23 dicembre del 1971. In realtà la mostra si sarebbe dovuto aprire nella primavera perché il 71, come sappiamo tutti, era l'anniversario, cioè il centenario della nascita di Balla. Però per dei problemi sindacali che avevano bloccato con degli scioperi tutto il personale delle soprintendenze, la mostra venne rinviata. E la mostra, appunto, il catalogo, che qui vedete, questo è il catalogo, la copertina del catalogo, con uno degli studi per il pugno di Bioccioni del 1915-16. E non è un caso che poi venga scelta questa copertina, proprio perché, diciamo, questi sono gli anni più in cui il Balla futurista, diciamo, si manifesta al suo massimo, massimo, nel suo massimo fulgore. E dicevo, quindi, la mostra viene, il catalogo viene introdotto da Palma Bucarelli, che già dà un avvio a che cosa sarà questa mostra. Cioè, questa mostra non vuole essere una mostra critica che aggiunge nulla di nuovo all'interpretazione della pittura di Balla. Questo dice Palma Bucarelli nell'introduzione. E sarà la linea guida, diciamo, della mostra, cioè quella di ricostruire, tracciare un iter storico del lavoro di Balla, senza però avere la presunzione, o comunque avere, diciamo, il desiderio di inventare nuove interpretazioni del lavoro di Balla. Ma viceversa, operare, come è stato già detto, tutta una serie di datazioni, attribuzioni certe, basate tutte sui documenti, e quindi di ricostruire proprio tutta la storia dei vari dipinti. E nel catalogo poi ci sono questi contributi preziosissimi di Livia Velani e Bernardina Sani, che fecero un lavoro straordinario, perché era tutta proprio la cronologia e le schede delle opere. Un lavoro che oggi a noi ci appare veramente quasi impossibile, visto che noi oggi ci gioviamo di, diciamo, tecnologie che ci riducono la quantità di lavoro, ma mi posso immaginare loro che cosa non facevano. Ogni volta sali, prendi il catalogo, scendi dalla... cioè, io mi ricordo come era la biblioteca. Esatto, quindi è una cosa, diciamo, veramente straordinaria e appunto un testo basilare che poi serve a chiunque poi si voglia occupare di Balla in un modo storico, insomma. Sì, infatti, in alcune... alcune poi nella rassegna stampa si dice, alcuni fanno riferimento al fatto che non c'è il catalogo, che c'è la mostra ma non c'è il catalogo, ci arriverà, il catalogo arriverà e quindi quando appunto si inaugura la mostra, insomma, nella rassegna stampa che io ho riguardato appunto non c'è... è certo, certo. Come dicevamo appunto c'era, già qualcuno ha detto appunto questo desiderio di ristudiare Balla, perché appunto gli studi sul futurismo che erano già cominciati negli anni 50 però avevano privilegiato anche grazie soprattutto ad Argan e poi a Calvesi la figura di Boccioni a scapito, in un po' in un certo senso... Certo. E' certo, per cui, è certo, quindi diciamo, però già diciamo a partire dagli anni 60 c'era stato un nuovo impulso agli studi su Balla. La prima mostra è quella del 1963 che si tiene a Torino, alla Galleria Civica d'Arte Moderna ed è una mostra a cui De Marchis fa regolarmente riferimento appunto nel... Ecco, questo è l'ingresso alla mostra, quello è l'invito appunto alla mostra, quindi c'era proprio tutto il salone centrale che era preso, insomma... No, da loro... Ah no, scusa, queste sono in galleria, no no, queste sono in galleria, ci sono tutte le foto, naturalmente insomma non era la sede, ma ci sono tutte le foto dell'allestimento, quindi volendo si può andare a ricostruire, ricostruire quelle... Bellissimo, c'è un pacco così, sì sì sì, c'è tutta la fotografata completamente. Certo. C'è un'archivio delle domande? C'è un'archivio delle domande? Quindi anche un po' per questo De Marchis fa riferimento a questo catalogo, perché diciamo in qualche modo era una garanzia, visto che diciamo era una mostra curata da storici diciamo di livello. E mentre invece, vabbè, naturalmente prima, questo poi è il catalogo della mostra del 68, nel 66 esce il celeberino, questa è la prima edizione, la copertina della prima edizione delle due avanguardie di Maurizio Calvesi, che raccogliono studi sul futurismo e oltre, dal 1958 fino al 1966 per l'appunto, nel quale ci sono anche due articoli dedicati a Balla, uno a Balla e un altro a Balla e Boccioni. Quindi diciamo che c'è un clima che sta appunto rivalutando il lavoro di Balla. Ma, diciamo, la cosa più eclatante in questo periodo sono ben sei mostre che la Galleria dell'Obelisco, guidata da Irene Brin e Gaspero del Corso, dedicano a Balla per tutto l'anno 1968. Quindi una cosa clamorosa, cioè sei mostre tutto un anno dedicato ai vari momenti della produzione di Balla. e mostre curate dai due fratelli Fagiolo dell'Arco, Maurizio e Marcello. Però ecco, io come dicevo non ho avuto la possibilità di leggere tutta la documentazione di De Marchis, però non ho trovato, diciamo, riferimenti a questi cataloghi, il che la dice lunga sul fatto, diciamo, sulla considerazione che De Marchis aveva, appunto, di Maurizio Fagiolo. E poi, come si diceva, cioè questo fatto della, come dire, compromissione dal suo punto di vista con il mercato. che invece, diciamo, che se da una parte, visto dagli storici dell'arte, è un, diciamo, un valore, d'altronde è anche vero che dal punto di vista degli artisti, diciamo, gli artisti devono anche campare, cioè devono anche vivere, devono venderle le opere, no? Quindi... Esatto. Quindi c'è questo, appunto, un po' questa oscillazione, no? Del punto di vista, allora, se è vero che, appunto, l'integrità, l'opera che va dallo studio dell'artista al museo è un valore, dall'altro è anche vero che, insomma, gli artisti hanno bisogno di vivere, quindi il mercato, come si diceva prima, no? È necessario, è importante trovare un giusto equilibrio. Ancora, tanto per citare, abbiamo un altro, il volume, il numero 33 del Verri, con la curatela di Anceschi, naturalmente, di Luciano Anceschi, nel 1970, dedica un numero al futurismo, tutto un numero al futurismo. Quindi c'è proprio un fervore, no? Nei confronti del futurismo. E un altro testo al quale fa riferimento De Marchis è la pubblicazione di un corso sul futurismo tenuto all'Accademia di Belle Arti di Catania da Anna Maria Damigella, altra storica dell'arte, molto stimata da De Marchis. Tanto è vero che nei documenti che ho visto, a un certo punto, non so se a te o alla Bernardina Sanice, vai a vedere il volume pubblicato dalla Damigella, perché c'è appunto questo testo che è, diciamo, e anche lì si ritorna al discorso del valore degli studi fatti all'interno di istituzioni invece che appunto in gallerie. Comunque diciamo che in tutto questo suo lavoro De Marchis privilegia sostanzialmente il balla futurista, cioè la cosa importante, quello che è come quel discorso che appunto tu facevi prima, cioè la grande importanza di balla per De Marchis è il futurismo, cioè il momento futurista. E quindi all'interno della mostra quello che viene molto ben tracciato è il passaggio dal divisionismo al futurismo, quindi dalla pittura figurativa, come si arriva appunto al futurismo. Anche perché appunto, come dicevo, insomma, De Marchis non vuole offrire una nuova interpretazione di balla. C'è un problema anche che questo focalizzarsi sul periodo futurista e lasciare un pochino in disparte poi i quadri, la produzione successiva di balla, tanto che l'ultimo quadro che viene messo in mostra è del 1951, quindi non arriva alla morte. E diciamo anche la seconda parte, cioè dopo, perché per De Marchis sostanzialmente balla non è più futurista, vero nel senso puro, dal 1918 diciamo. Cioè già dalla firma del Manifesto della ricostruzione futurista dell'universo, con De Pero, lui già, diciamo, la cosa perde di purismo, insomma, in un certo senso. Però c'era un altro problema che era quello dell'avere a che fare con le figlie. Quindi diciamo che ci sono delle cose molto divertenti, appunto, anche sempre in questi appunti, in cui lui dice, per carità, Livia, tienimi lontane le figlie, non le voglio vedere. Quindi c'è proprio anche un problema diplomatico, diciamo così, per cui inserire all'interno della mostra opere tarde di balla significava avallare in qualche modo opere incerte, di incerta datazione. No, però c'era un'imposizione da parte della famiglia che lui non stava. Appunto. Non si dimenticava che sono i stavoli, non si portava i giorni, e questo non era il stato interno. Ecco, allora io ho trovato anche un articolo di un episodio che avvenne durante l'inaugurazione per la critica che luce, balla, cominciò a staccare i quadri, perché era talmente arrabbiata che cominciò a staccare i quadri dalla parete. Pare che De Marchis, proprio con una plomb inglese, neanche la guardò, girò e si andò e chiamò i custodi per dire riattaccate le cose. Insomma, è una specie di crisi isterica. Questo è raccontato in un piccolo trafiletto, un po' una nota di colore sulla mostra. Però dà il senso appunto di quanto ci fosse questa ingerenza appunto delle figlie. Quindi in un certo senso appunto De Marchis, sono varie appunto le ragioni, sono ragioni storiche ma sono anche ragioni diplomatiche per cui lui si concentra sul periodo futurista. La mostra ottenne naturalmente un successo a livello nazionale. C'è una rassegna stampa meravigliosa, Torino, Milano, Venezia, lodi, sperticate a questa mostra, a questa celebrazione, doverosa celebrazione di questo grande artista italiano. Però ci sono anche degli attacchi. Per esempio la Lorenza Trucchi, sempre acuta e come dire, sottile e molto... Sì, però diciamo che invece su molte cose, per esempio sull'interpretazione di Colla, sia De Marchis che Latrucchi sono d'accordo. Quindi, cioè sul non considerare Colla un neodadaista, De Marchis e Trucchi sono d'accordo. In realtà, un po', diciamo, Latrucchi che pubblica questo articolo su Momento Sera, nel 14 gennaio del 72, critica la mostra considerandola, definendola algida. e dicendo che, secondo lei, questo lato troppo scientifico, cioè questo basarsi sui dati certi, come diceva proprio De Marchis, aveva un po' indebolito la mostra. Cioè, secondo Latrucchi, De Marchis si sarebbe dovuto lanciare un po' di più, magari proponendo delle opere inedite, magari qualcosa di collezioni private. Insomma, a un certo punto, alla fine, scrive che la galleria, ritiene che la galleria abbia perso un'occasione per rendere pubblica giustizia al nostro primo grande artista d'avanguardia. Comunque, insomma, questo un po' per dire che, diciamo, questo rigore scientifico, questa proprio analisi castica dell'opera, questo lavoro scientifico, filologico, alle volte poteva risultare un po' imbustato, diciamocelo, ecco. Poi un po' in tempi, no, come si diceva prima, in cui tutto era affervescente, tutto in cambiamento, appunto, c'erano... Questo capiamo di un disbrano, non il mondo, ma sempre in questo modo. Sì, beh, certo, poi, sì, esatto. Quindi, insomma, anche Enzo Siciliano scrive un articolo, diciamo, un po' polemico, insomma, e sostiene che la mostra è disgregata. L'unica cosa che coglie è questa perfetta ricostruzione del passaggio tra, appunto, la pittura divisionista e poi il futurismo. Ecco, qui lui, in una di questi documenti, che vi porto così più che altro come esempio del tipo di pagina, ecco, non è che si possano leggere, però, insomma, per farvi capire che tipo di documenti sono conservati, appunto, lì in fondazione, e andrebbero letti così con grande pazienza. Ecco, lui scrive, questo rivolto probabilmente a voi, provo a ripetere, la cronologia delle opere va fatta per opere documentate alla prima documentazione di ognuna, discutendo la data iscritta quando c'è, o altre date, nel corso della scheda, sia per accettarle che per rifiutarle. Quindi, c'è questa cosa, appunto, la prima data certa, quello, no, anche che tu dicevi, c'è il fatto che nulla... Esatto. Sì, sì, beh, questo comunque... Non ti ho detto che a un certo punto in Italia mi dissero non lavorare per le macchie, perché sono ovviati. Certo, certo. Eh, certo, quindi c'era, è chiaro che c'era una, diciamo, un punto di vista diverso nell'affrontare. Certo, il lavoro di De Marchi sarà un lavoro assolutamente storico, cioè, rigoroso, serio, filologico, di ricostruzione dei fatti, di ricollocazione... Ah, certo, certo. Sì, sì, è che noi, appunto, siamo invece poco abituati, appunto. Comunque, questa concentrazione, appunto, sul periodo futurista rivela anche il fatto che De Marchi, per esempio, considerasse che non... Il secondo futurismo praticamente non esisteva per lui. Però qui c'è poi tutta una bibliografia molto complessa sul secondo futurismo, che vabbè, non è il caso di affrontare qui, ma insomma, di chi lo definisce, chi lo collega tutto al futurismo, chi lo chiama secondo futurismo, chi lo accetta, chi non lo accetta. Lui però, appunto, con il suo solito spirito così un po' ironico, lo definisce grossolano e scandaloso tentativo di presa di potere corporativistico. Ecco, questo è come lo definisce, appunto, De Marchis. Quindi, diciamo, in un certo senso, appunto, c'è una... Anche ci sono delle prese di posizione molto chiare, cioè non è che, diciamo, sì, è vero che De Marchi sa questa ricostruisce, eccetera, però poi ha delle posizioni chiarissime nei confronti, appunto, dei fenomeni e dei paradigmi interpretativi delle opere. Quello che, appunto, abbiamo detto finora, lui lo mette anche proprio come, diciamo, premessa alle schede. I reggessi bibliografici si basano sul criterio fondamentale del diretto reperimento del dato bibliografico. Non sono state prese in considerazione, infatti, tutte le notizie non riscontrabili con assoluta certezza. Esatto. Quindi, in un certo senso, De Marchis assolutamente è lontano da Argan, dal metodo, dalla metodologia arganiana, no? Filosofico-logica, come è lontano dalla componente letteraria della critica brandiana, ma anche dalle interconnessioni disciplinari, per esempio con l'antropologia, la sociologia, la letteratura, il mito, come era successo già a partire dagli anni 30 con le scuole Warburgiana e Kompanovski. Quindi, benché meno, diciamo, si basa sulla psicologia della forma o su studi della percezione visiva. Quello, lui ha una fiducia assoluta nell'analisi icastica del documento. E, in un certo senso, è un po' un outsider rispetto alle scuole di pensiero, diciamo, più accademiche, più universitarie, anche proprio perché, in qualche modo, lui incarna quella disputa che c'è sempre stata dalla nascita della disciplina, cioè tra chi lavora nei musei e chi lavora nelle università. perché, appunto, chi lavora nel museo ha questo contatto diretto con l'opera, con l'oggetto, che diventa anche documento, appunto, mentre chi sta all'università spesso è tacciato di fare letteratura fantastica, insomma, di non avere un contatto diretto. Sì, ora sta cambiando, però, diciamo, è qualcosa che nasce, un po' una dicotomia che nasce proprio ancora alla fine dell'Ottocento, quando c'è questa un po' questa divaricazione, perché poi all'inizio alcuni che lavoravano nei musei entrano nelle università e viceversa, però c'è un po', rimane, un po' questa distanza, no? Tra i due ruoli, perché ovviamente il professore universitario quasi, diciamo, per forza diventa più un letterato che non un, diciamo, un esperto del contatto diretto con l'opera. Naturalmente, in tutto questo, comunque, in questo valore che De Marchis dà al documento, non manca l'analisi stilistica, insomma, questo è chiaro, no? Perché sennò sembra che lui... Però, anche l'analisi stilistica è sempre finalizzata alla collocazione storica e alla ricostruzione di uno sviluppo dinamico del percorso artistico di un artista. Insomma, del percorso artistico. Si potrebbe definire un archeologo della contemporaneità. È uno storico dell'arte che tratta le opere come dei reperti. In un certo senso, però, diciamo, in questa sua lettura, nella lettura così diretta delle opere, De Marchis, a mio parere, attribuisce all'opera quasi sempre un ruolo un po' passivo, cioè interpreta l'opera per collocarla all'interno di un contesto storico. Quindi l'opera come appunto rappresentanza di un determinato contesto, di un determinato paradigma. Cioè, balla, quel dipinto è futurista, sta all'interno del futurismo. Quello che lui un po' manca, diciamo, in un certo senso, è attribuire viceversa un ruolo attivo all'opera. È proprio attraverso quell'opera che esisterà il futurismo. Cioè, lui fa un po' come un percorso sempre inverso. Cioè, futurismo, cubismo, metafisica, surrealismo, insomma, comunque, arte povera, arte concettuale, cioè, tutto. E l'opera rientra all'interno di questo. Viceversa, non fa mai l'opposto, cioè partire dall'opera per poi costruire. Un po' questa è un'impressione, appunto, nel suo. E un'altra cosa che, diciamo, anche tu dicevi, mi pare che, o Barbara anche la sottolineava, che questo suo metodo, così castico, così storico, e documentale, un po' mette in evidenza, sembrerebbe come un po' un disinteresse da parte di De Marchis per le intenzioni dell'artista. Cioè, a De Marchis non sembra interessare, lui non vuole condividere l'esperienza emotiva, le intenzioni, quello che l'artista voleva fare. Diciamo, in un certo senso, così, per dare un po' un'immagine, sembrerebbe quasi un entomologo che considera lo studio degli insetti, no? Cioè, ha questo tipo di atteggiamento che è assolutamente lontano, per esempio, da Emilio Villa, con il quale lui poi condivide appunto anche alcune interpretazioni di colla, anzi, riconosce a Villa la prima vera interpretazione del lavoro di colla, insomma, però lui ne è completamente distante. Anche per quello che riguarda un altro punto importante di Balla, che sono le compenetrazioni iridescenti, De Marchis ha una posizione molto netta, cioè lui non considera le compenetrazioni iridescenti non delle opere d'arte, non, appunto, non opere da cavalletto, non opere definitive, quindi, nella question, vexata questi, o perché di questo si tratta, sulle compenetrazioni iridescenti, lui ha una posizione molto precisa. Leggiamo ancora nei suoi appunti. come le compenetrazioni, come le compenetrazioni sono progetti di decorazione poi trasferiti e promossi a dignità di quadri, così molti quadri astratti, raramente documentati, di data incerta e tarda, spesso in forme simmetriche, potrebbero essere proprio trasferimenti fatti dall'artista o chi per lui di progetti o disegni di decorazione e arredamento, mattonelle, stoffe, eccetera, da riferire dunque a originali, da cercare tra taccuini, collage e disegni. Le opere che nascono come quadri dovrebbero avere ambiziosamente sempre un contenuto o un soggetto denunciato dal titolo simbolistico e da elementi iconografici, quindi, in un certo senso, lui proprio prende le distanze da quella che invece sarà la lettura di Colla perché, ecco, e qui poi appunto vedremo, insomma, perché Colla invece attribuirà, diciamo, cercherà di portare dalla sua parte alla causa astrattista proprio il ballastratto e quindi di ritrovare un padre nobile all'astrattismo italiano che addirittura Colla lo colloca prima di Malievic e quindi insomma di appunto dare questo valore così forte a Balle e adesso vedremo appunto forse sto parlando troppo e quindi diciamo ecco un po' De Marchis individuerà poi invece un vero e proprio astrattismo in in balla solo in questo gruppo di dipinti che saranno definiti dimostrazioni e che saranno realizzati tra il 1915 e il 1918 in questo lungo percorso adesso non voglio poi annoiarvi troppo l'anno successivo De Marchis pubblica con Sandra Pinto questa volta per Bulzoni editore il catalogo generale di Colla con una prefazione di James Johnson Sweeney è una poesia di Willem Sandberg e anche qui diciamo la metodologia è una metodologia assolutamente meticolosa rigorosa ed è questo è il primo catalogo vero serio scientifico su Colla anche perché noi sappiamo che diciamo i capisaldi chiamiamoli così della bibliografia su Colla sono Holloway 1960 che poi però De Marchis bacchetta varie volte perché è pieno di errori datazioni attribuzioni cose insomma esatto cioè quindi così poi c'è questo di De Marchis Pinto in cui la collaborazione è strettissima cioè lavorano proprio molto insieme quindi in realtà poi quella che De Marchis chiama biografia che è il testo centrale anche qui è interessante il fatto che lui la chiami biografia cioè non è il testo critico dell'interpretazione di Colla lui fa la biografia quindi diciamo ritorna e ripercorre questa sua cosa però insomma nonostante le schede siano firmate dalla Pinto secondo me nella biografia c'è diciamo un lavoro di grande collaborazione tra i due quindi me lo immagino anche perché questo libro fu fatto di corsa insomma De Marchis diceva che avevano pressioni sia da Mariolina Colla sia da Carla Panicali che aveva era stata esecutrice testamentaria e quindi aveva in mano tutta la pur scarsa produzione di Colla perché Colla poi non è stato un artista prolifico quindi insomma c'era poca roba quindi bisognava sbrigarsi a fare questo catalogo generale e poi appunto quindi Halloway De Marchis e Celant quello che differenzia diciamo Celant recupera Colla come padre nobile diciamo dell'arte povera e quindi diciamo in contrasto mentre comunque De Marchis è allineato sia assolutamente prima con Villa poi con Halloway è in contraddizione anche con la Trucchi come dicevo prima sì ma Lorenzo infatti poi Lorenzo sarà la prima a scrivere sui sacchi di Burri cioè insomma è stata assolutamente una pioniera e invece appunto è in contrasto con questa nuova interpretazione di Celant che in qualche modo strumentalizza Colla perché anche questa è una cosa importante perché al di là poi del tipo di metodologia che può essere più storica più estetica più interpretativa ma non è mai strumentale mentre il lavoro che fa Celant ahimè è strumentale per poi sostenere il suo discorso sull'arte povera quindi diciamo queste sono le grandi esatto comunque in questo volume su scusate io mi sono persa le immagini ecco questo è il catalogo 72 sono proprio praticamente la mostra di Balla finisce all'inizio febbraio del 72 sì 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 certo esce appunto questa è una foto di Sergio Pucci famosissima di Colla con la pistola sì certo e questa è appunto la pagina di Arti Visive su cui del numero 67 1954 nel quale esce appunto il primo il primo articolo di Villa su Colla che è ancora il Colla geometrico cioè è ancora quello che De Marchis definisce la falsa partenza sì 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 però Villa già intravede tutta una serie di potenzialità in questa scultura perché vabbè adesso non posso stare a fare tutta la storia di Colla insomma sì infatti c'è molto costruttivismo c'è questa cosa geometrica sembra quasi un capogrossi geometrico insomma dirà poi De Marchis nella sua esatto e poi naturalmente insomma De Marchis individua anche l'ascendenza burriana il materismo di Burri perché poi come sappiamo tutti Colla era stato il primo a ospitare Burri a comprare i quadri insomma quindi c'è tutta una connessione e questo invece poi è l'articolo bellissimo articolo poetico di Emilio Villa nel 56 in cui c'è proprio ormai quasi Villa è quasi stupito dei risultati a cui è riuscito arrivare Colla partito da questa cosa riesce a creare questi assemblage assolutamente fantastici con dei riferimenti e poi De Marchis sottolineerà anche lui la classicità di queste opere nonostante appunto questo riferimento al caso surrealista all'objet trouvée anzi qui poi Villa fa una cosa molto bella insomma rileggetevelo perché è un pezzo molto bello veramente lirico e comunque detto tutto questo in realtà poi appunto nonostante gli approfondimenti e come dicevo all'inizio in questa lunga biografia che De Marchis fa su Colla con tutti questi riferimenti storici e di collegamento stilistico con quello che lo ha preceduto e con quello che appunto succederà rimanendo in continuità con quella linea interpretativa di Villa non affronta mai questo problema colla balla cioè qual era però il rapporto tra colla e balla perché diciamo sì c'è questa continuità se noi guardiamo appunto nella prima pagina a sinistra quel disegno di colla vediamo che appunto è stato preso dalla bambina che corre sul balcone quindi sono le linee ah scusa a sinistra il primo adesso non so se si può un po' ingrandire cioè proprio sono linee andamentali perché c'è questa scoperta si ballocco burri colla e capogrossi come mi raccontava di margis furono questi che andarono a tirare fuori il vecchio maestro poverino esatto esatto esattamente esattamente cioè esatto i due che andarono veramente appunto poi furono colla e mannucci poi d'orazzo si è attribuito delle cose che diciamo ecco appunto 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 quindi comunque diciamo ecco quello che poi noi abbiamo un po' sviscerato invece è questo rapporto che io vi sintetizzo in questo piccolo questo scritto e poi concludo colla tra la fine degli anni 40 e l'inizio degli anni 50 avvicina balla che probabilmente già conosceva non è chiaro come non sappiamo avendo sul punto varie versioni se per iniziativa personale o su suggerimento di altri nel 1951 colla partecipa all'organizzazione come fiduciario di balla di una mostra presso la galleria Bonpiani di Milano omaggio a G. Balla Futurista la mostra a Milano però non si fa la stessa mostra si terrà invece presso la galleria origine rivelandosi nonostante le buone recensioni ricevute purtroppo un insuccesso commerciale probabilmente anche a causa delle stranezze negli accordi che erano stati presi tra Balla e Colla e di cui noi appunto abbiamo i documenti che abbiamo poi analizzato nel libro nel 1952 su Arti Visive Colla pubblica un articolo su Balla che è quello scusate eccolo eccolo qua nel quale lo allontana dall'esperienza futurista senza neanche citare la mostra di Balla da lui stesso realizzata l'anno precedente pubblicando in quell'occasione sembrerebbe per la prima volta le famose compenetrazioni ridescenti alla fine dell'articolo Colla promette che per documentare quanto è detto in questa breve nota la fondazione origine organizzerà nella prossima stagione una mostra di opere astratte di questo geniale maestro la promessa rimase lettera morta la mostra non si fece questi fatti come spiegare queste circostanze contraddittorie che nella storiografia peraltro esigua sono riassunte e semplificate in una generica e presunta identità di vedute quasi un passaggio di consegne tra Balla e Colla la nostra ipotesi è sostanzialmente questa Colla si avvicina a Balla per cercare di utilizzarne il prestigio a sostegno della causa astrattista questo in un febbrile clima di arruolamento che sappiamo aver caratterizzato la prima resistenza al realismo sotto il fuoco nemico non si poteva andare troppo per il sottile pur di portare Balla dalla sua parte Colla si accontenta di organizzare una mostra di opere futuriste dal carattere commerciale sia pure un po' confuso della quale appunto abbiamo detto Colla però probabilmente fu così colpito dalla qualità formale di certe opere di Balla da cadere in una sorta di infatuazione come in tutte le infatuazioni Colla si formò un'idealizzazione di Balla che di fatto poteva non corrispondere al Balla reale e forse all'immagine che il vecchio maestro voleva offrire di sé perché come sappiamo Balla voleva rivendersi come futurista capito perché dice qua non si batte chiodo esatto esatto capito esatto quindi esatto quindi si può ipotizzare allora un Colla che cercasse di spiegare magari di imporre allo stesso Balla quale fosse la giusta gerarchia tra le sue opere e un Balla che fosse infastidito da quella ingerenza sia pur mossa come si dice dalle migliori intenzioni in seguito Colla sulla base delle sue personali convinzioni non avendo in realtà mai avuto simpatia per il futurismo prende le distanze dal Balla caratterizzato dall'attributo futurista tentandone una enucleazione genericamente astrattista postulandone però il primato temporale dal movimento stesso nell'articolo su arti visive cioè questo fatto che lui dice addirittura lui ha fatto l'astrattismo prima di Malievic cioè siamo noi i veri astrattisti dalla nostra ricostruzione è possibile come dicevamo ipotizzare che a Balla già deluso dalla mancata mostra di Milano e dal pessimo esito commerciale della mostra di via Aurora l'operazione non piacque affatto Balla probabilmente era intento dopo come sappiamo tanti tentennamenti al contrario in una riappropriazione della propria esperienza futurista non si può neanche escludere che una notevole influenza nel prendere quella direzione fosse dovuta a pressione del suo entourage familiare tra cui l'avvocato Donati già che sembrerebbe che Balla non stesse bene in salute in particolare in quel 1952 pare che ebbe un ictus che gli provocò un emiparesi e le sue veci come testimonia alla lettera privata tra colla e Balla erano sempre più spesso prese dalla figlia maggiore Luce all'anagrafe Lucia esatto esatto sta per arrivare rammentiamo che solo allora le opere futuriste non solo di Balla cominciavano ad essere ricercate dal mercato in particolare dall'America sembrava esserci un vivace interesse talvolta descritto come un accaparramento culminato nell'acquizzo della lampada d'arco da parte del MoMA di New York nel 1954 ma come proprio quando finalmente sembrava che il futurismo dopo tante delusioni potesse dare qualche soddisfazione economica alla famiglia Balla se ne sarebbe dovuto allontanare in più questo tentativo di rimettere le compenetrazioni sul cavalletto da parte di colla non era forse controproducente e contraddittorio nei confronti della causa strattista colla che era stato capace di vendere che non era stato capace di vendere neanche un'opera nella mostra aveva forse perso credibilità agli occhi di Balla o forse il distenso era più elevato e riguardava le rispettive diverse concezioni dell'arte sebbene tutte queste ragioni che naturalmente sono delle ipotesi sarebbero sufficienti a spiegare i fatti noi riteniamo ci piace pensare che non siano state quelle a determinarli piuttosto è possibile che abbiano fornito il pretesto per l'inevitabile divorzio dopo un matrimonio di interesse in qualche modo combinato ma privo di vero amore qualcuno vale? eccoci grazie 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 ma sì certo questo è in dubbio questo senz'altro anche per esempio c'è un pezzo molto bello che lui scrive proprio dopo la morte di Leoncillo perché lui era amico di Leoncillo quindi c'è questo pezzo curano la mostra proprio sempre tra il 1968 70 insomma siamo in quegli anni lì e lui scrive questo testo veramente commosso per cui è chiaro nel quale un po' adesso contraddico un po' quello che ho detto però un pochino lui si sente vicino anche umanamente a Leoncillo esatto quindi no ma sicuramente sono d'accordo su questo cioè quando lui è chiaro che parlare cioè quando lui fa la mostra e balla balla è morto già da 14 anni sì poi ci sono ste figlie così eccetera quindi però è chiaro che è più facile certo è il novecento certo è contemporaneità ma diciamo storia già e invece ovviamente quando lui parla di artisti che ha conosciuto con i quali ha condiviso una parte del percorso eccetera eccetera sicuramente c'è un altro un altro taglio proprio nel suo approccio assolutamente sono assolutamente d'accordo sì 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 Grazie. Sì, sì, ma sì, però no, secondo me è un po' diverso perché è proprio una cosa di vita vissuta, cioè come è difficile avere un atteggiamento distaccato, algido da una cosa che tu stai vivendo. Puoi avere un atteggiamento più distaccato di una cosa che magari è morto da dieci anni, vent'anni, cioè quello già comincia a essere qualcosa da cui puoi avere un distacco, mentre una cosa che tu, un artista con il quale magari sei andato a cena, poi diciamo, mi sta simpatico, mi sta antipatico, cioè questo... E' un personaggio molto complesso, e poi è un personaggio di mare. Sì, infatti è molto bello, devo dire, c'è quel testo molto bello che lui scrive, perché fecero la mostra in galleria dopo la morte di Leoncillo, peraltro ci sono delle opere belle, molto belle figurative di Leoncillo, bellissime, sì, infatti, ma dopo secondo me un po' si perde, è più complicato così. E quindi lui scrive questa cosa che è completamente diversa, no? Cioè se tu leggi l'introduzione a balla, poi leggi con Leoncillo, dici ma non è la stessa persona, no? E quindi sicuramente... Ah ma certo, certo, assolutamente. Come succede... No, no, però invece... Come succede con Giulio Turchato? No, ha questo rapporto con Turchato, nonostante sia un rapporto difficile tra Giulio Turchato e Giorgio De Marchis, ma non lo abbandona, cioè Giorgio... Esatto, e lo porta in galleria da Anna D'Ascanio, che era una sua amica, un'aquilana, e sì, Anna D'Ascanio era aquilana, e Anna D'Ascanio fa le mostre su Giulio Turchato con la sua galleria fino all'ultimo, e continua a... E tutto sul consiglio di Giorgio, ma il coinvolgimento di Giorgio con Giulio Turchato era un coinvolgimento diverso, sì, sono d'accordo anch'io, assolutamente. Grazie. 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 Grazie a tutti. No, ma invece no, il contrario, noi saremmo felicissime, noi saremmo felicissime se vuoi regalarli. Eh? Ha voglia. grazie Barbara ora Elisabetta Sonnino che ci parlerà di De Marchis sull'abitare sotto lo stesso tetto e la sua idea di restauro dell'arte contemporanea buonasera voglio innanzitutto ringraziare Barbara Drudi e la nostra direttrice Maria D'Alessio per questo invito perché è per me una grande occasione poter restituire un'esperienza che dico subito è molto personale rispetto insomma alla frequentazione con il professore e con Giorgio e quindi non sarebbe stato assolutamente semplice trovare una sede adatta per condividere con voi questa esperienza un'esperienza che è stata per me come spero di riuscire a trasferire attraverso questo mio breve contributo che vista l'ora forse poi leggerò per non uscire dal solco perché parlare di Giorgio De Marchis vuol dire uscire da tanti solchi perché era una persona assolutamente poliedrica di grande ricchezza di grande cultura quindi potremmo insomma anche insieme affrontare varie facce di questa persona che dico subito per me io l'ho sempre chiamato il professore per me è stato un maestro praticamente come inizia la nostra storia la nostra storia inizia che io per lavoro sono una restauratrice mi sono dovuta trasferire all'Aquila e sono per puro caso capitata cioè per puro caso perché alcuni amici conoscevano il fratello insomma per farvela breve ero affittuaria nel suo palazzo qui all'Aquila in via indipendenza il palazzo Simeonibus ed avevo appunto un laboratorio di restauro al piano terra che anzi sono lieta di aver parlato con Diana di Berardino perché so che questi spazi che io ho abitato e vissuto diciamo con una realtà con un momento così di vita condiviso con Giorgio hanno poi avuto una loro evoluzione e saranno poi anche sede della fondazione quindi perché questa cosa io ho pensato di trasferirvi questa mia esperienza che in realtà è ricchissima davvero ricchissima utilizzando un suo libretto sostanzialmente che è quello sull'abitare un pochino perché è nato mentre io e il mio compagno di allora condividevamo la sua residenza quindi ci trovevamo insieme e abbiamo condiviso lunghissime giornate soprattutto serate nonché nottate indimenticabili con Giorgio devo dire e proprio ho avuto questa grande fortuna di vedere nascere un po' questo che secondo me fa proprio il paio tra anche il rapporto con il suo palazzo il rapporto con la sua città natale il rapporto con l'abitare e con l'appartenenza che in quegli anni dal suo ritorno a Tokyo era un tema molto molto significativo per lui era un tema almeno quello che io ho percepito davvero centrale ecco quindi dicevo che ho conosciuto il professore negli anni 90 quando lui è rientrato da Tokyo ci siamo incontrati all'Aquila perché io ero un'affittuaria nel suo palazzo e nacque subito una bellissima amicizia all'interesse del professore per la mia attività di restauratrice io di contro restavo incantata dai suoi racconti sull'arte gli artisti e in genere del suo modo di parlare interpretare le cose del mondo chi lo ha conosciuto sa bene come riuscisse a intrattenerti per ore parlando con competenza raffinata cultura e grande ironia dei più svariati argomenti mi sembrava che il professore sapesse davvero tutto e ciò che mi affascinava era il suo modo di presentare le sue esperienze nel mondo dell'arte ma non solo stimolare l'osservazione delle cose quelle belle innanzitutto devo dire che le risate più colte io le ho fatte con lui per meglio presentare almeno alcune delle tante riflessioni che il professore ha con me condiviso vorrei utilizzare alcune citazioni da questo bellissimo libretto dell'abitare perché qui mi sembra che sia riportato molto del suo pensiero e dei valori a cui teneva quella ad esempio proprio dell'abitare dell'appartenenza ad un luogo di origine e l'importanza di mantenere questa appartenenza nei giorni in cui Giorgio si dedicava alla stesura del testo condivideva con noi la ricerca di un logo simbolico che traducesse il suo proponimento elaborò delle parole ed un criterio grafico per restituirle ecco qui non c'è bisogno di commentare l'efficacia e la bellezza di questa composizione almeno diciamo noi che abbiamo avuto la fortuna che lui andava in giro con questi appunti ogni tanto che uscivano fuori dai mille taschini con la pipa eccetera eccetera però insomma aveva anche diciamo un'elaborazione molto intima di alcune di alcune sue cose e di botto insomma elaborò questo che mi sembra diciamo di grandissima di grandissima efficacia nel saggio citato la parte iniziale premessa il lessico si conclude con un testo denso e ricco di significato e vorrei leggerlo lontano da casa è una condizione particolare di assenza in casa si nasce si vive e se la sorte lo permette si muore di casa si esce per andare nel mondo in casa si torna dall'essere stati nel mondo dal lavoro dal vagabondaggio dall'avventura dall'esilio si va in molti luoghi diversi ma che sia dal negozio quotidiano o dal viaggio di cento anni si torna in uno solo questo era proprio diciamo il pensiero il sentimento di fondo che in quel periodo che ho avuto la fortuna di conoscere Giorgio proprio trasferiva questo suo ritorno da Tokyo aveva per lui un grosso significato per riprendere questa rinnovare questa memoria e questa appartenenza e quindi spesso ne parlava e si aggirava nel suo palazzo grandissimo in queste stanze proprio con questa con questa ricerca delle cose la descrizione degli oggetti che ci faceva oggetti più o meno particolari ma ricchi di memoria e di famiglia e quindi ecco mi sembra che alcune cose siano molto significative il saggio prosegue poi elencando gli spazi della casa con quella cura e stile davvero unici che caratterizzano la sua personalità mi soffermo su un altro capitoletto quello dedicato alla camera da bagno lo spogliatoio che trovo davvero straordinari nello spogliatoio qui è la frontiera tra il giorno e la notte l'azione e il riposo la vita di relazione e la vita intima l'essere per gli altri e l'essere per sé lo specchio ci restituisce l'immagine fedele di quello che sembriamo e di quello che siamo oppure ancora quello più breve sulla soffitta qui nel buio e nel silenzio sottratti al ritmo della vita attiva dormono quietamente gli oggetti domestici cessati dall'uso ma non dall'esistenza ecco spesso il professore mi mostrava degli oggetti della sua casa per illustrarmi nella provenienza oppure avere consigli sulla loro manutenzione ovvero il proprio restauro ma mentre discutevamo del problema strettamente tecnico da risolvere mi raccontava la storia di quell'oggetto e i personaggi che con esso avevano avuto un legame legame che egli ricercava e voleva mantenere sovente saltava fuori il busto in gesto dello zio canonico il pro 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 zio serafino canonico del venerabile capitolo della cattedrale dell'Aquila e la narrazione si arricchiva di vicende lontane di famiglia personalità centrali o di contorno ma da lui descritti sempre in modo avvincente a volte con malinconia ma riuscendo ad utilizzare queste memorie e renderle per nulla rassegnate uno degli aspetti che trovavo in lui straordinari era la capacità di non lasciare mai troppo spazio alla mestizia di condirla con quella ironia di cui solo lui era capace e quasi sempre qualsiasi genere di vicenda anche la più travagliata era alla fine dal professore dipinta con tratti umoristici non certo per superficialità ma per distinta saggezza un'ultima citazione di questo libretto è sulla camera da letto è il luogo del silenzio dove il passo non ha rumore la parola diventa sussurro il gesto fruscio il pensiero sogno e dove distesi sul letto abbiamo tregua dalla lotta diurna contro la forza di gravità non vi sono né armadi né cassettoni bensì un grande tappeto una comoda poltrona un piccolo tavolo da notte un lume uno scrittoio e al muro un solo grande dipinto di soggetto fantastico in trompe l'ail una mongolfiera siderale un'arca di noè una selva di alberi wak wak che nel dormiveglia sembrino diventare o diventino reali la sua stanza era proprio un po' così veramente nella casa lui l'aveva organizzata davvero un po' così ci sono tanti altri passi molto belli di questo libretto che davvero io trovo che sia di grandissima poesia però penso che tutti lo conoscete e quindi ho voluto soltanto segnalare alcuni passi di cui proprio mi ricordo diciamo la sua elaborazione conservo quindi questo libretto per me molto prezioso con tantissimo affetto e riguardo sia perché ricco di poesia sia perché lo considero come un insegnamento per me è come un manuale diciamo non uso questo termine manuale semplicemente perché temo di mortificarne l'aspetto così ispirato e raffinato della scrittura ma è per me una sorta di guida di chi intende riflettere sugli equilibri delle cose e degli spazi molto spesso partivamo insieme da Roma per andare all'Aquila passavamo a prendere il professore sotto casa e iniziava il viaggio durante il quale con Giorgio non c'erano mai momenti di silenzio e noi sempre attenti ad ascoltarlo chiedevamo pareri e consigli sui nostri progetti più o meno sempre inerenti al mondo dell'arte o a quello del restauro spesso sottoponevo a lui quesiti su come impostare un testo per un convegno o una pubblicazione quando si concentrava su queste richieste Giorgio non entrava nel dettaglio ma nella sostanza della comunicazione facendomi comprendere come il linguaggio dovesse rispettare precisi passaggi per essere efficace da lui ho imparato molte cose per questo l'ho sempre chiamato il professore arrivati all'Aquila nel suo palazzo Giorgio scompariva per far fronte alle sue mille faccende e salutandoci ci dava appuntamento alla sera per cenare assieme generalmente andavamo appunto fuori a cena ma sempre solo dopo che il professore aveva fatto la sua ginnastica yoga quando aveva terminato i suoi esercizi ci bussava la porta o ci incontravamo per le scale pronti con qualsiasi tempo a dirigerci alla sala blu questa trattoria che oramai purtroppo non esiste più ci piaceva moltissimo con il suo arredo anni sessanta locale spazioso e cibo semplice ma buono tutti i camerieri conoscevano il professore ed i suoi gusti perciò al suo arrivo lo accoglievano illustrando i piatti del giorno anche a tavola imparavo da lui sulle tradizioni alimentari il senso antico del convivio e l'importante equilibrio tra il cibo e il benessere del corpo quando il professore si tratteneva più giorni all'Aquila trovava il tempo di venirmi a trovare nel laboratorio avevo allestito un laboratorio di restauro al piano terra del suo palazzo preparavo per lui la sedia più comoda e mentre trafficava con la sua pipa contemplava le opere che erano in restauro chiedendomi lumi sulla loro provenienza e su come stessi operando al suo arrivo facevo sempre volentieri una pausa che poi pausa non era poiché il professore aveva la capacità di risvegliare sempre il pensiero la curiosità e la voglia di sapere così fu che inevitabilmente iniziamo a discutere seppure appuntate sul tema del restauro ed in particolare quello dell'arte contemporanea in quegli anni mi stavo concentrando soprattutto sulla teoria della conservazione del contemporaneo in anni in cui il dibattito non era ancora diffuso e di riferimento era principalmente quello della teoria brandiana sul restauro sforzandoci tutti gli addetti al mondo della conservazione di capire se e in che misura tali assunti potessero ritenersi validi anche per le forme artistiche più aleatorie e impermanenti temi che allora si iniziava ad affrontare in Italia complesse di atribbe per far conciliare i nuovi linguaggi con una pratica quella del restauro di più antica tradizione ma il professore aveva anche in questo caso le idee chiarissime ecco anche di questo io ho imparato molto da lui poiché come appunto ho cercato di spiegare davvero in quegli anni il dibattito era anche per certi versi piuttosto confuso c'erano dei riferimenti diciamo assolutamente unicamente aderenti al pensiero brandiano e quindi anche con un pochino di difficoltà ad avere una lettura diciamo di quello che poteva essere i linguaggi artistici contemporanei di come potevano essere interpretati anche di un linguaggio nuovo da inserire ma il professore non ebbe mai diciamo un momento di anzi mi raccontava dei fatti esilaranti insomma proprio anche sul restauro io lo uso sempre questa citazione che è questo episodio che il professore mi raccontava Elisabetta dice Elisabetta ti faccio capire tutto da questo racconto e iniziava questo brevissimo racconto che cosa diceva che mentre lui era direttore alla Galleria Nazionale Atte Moderna accade che un visitatore con il cappuccio della penna BIC fa qualche altro buco in uno dei buchi di Fontana tutti impazziscono chiamano il maestro che allora era ancora ancora in vita e il professore dice quindi capisci bene Elisabetta che cosa ti dico arriva a Fontana guarda il quadro gli raccontiamo quel che è successo e lui dice beh buco più buco meno e quello diciamo lo riporto perché in quegli anni non era scontata questa accettazione non era proprio una visione che si faceva molta fatica lui non faceva questa fatica era proprio diciamo aveva un'elaborazione molto e quindi ecco ho ancora vorrei desidero insomma riportarvi solamente alcuni passaggi di questa di questa intervista che facemmo come dico insomma in quel periodo in cui mi occupavo di questi di questi temi e con queste diciamo domande piuttosto semplici professore qual è la sua opinione sul restauro dell'arte contemporanea questo è un problema che è stato posto ma che ancora non viene affrontato in tutta la sua importanza e complessità e che mi ah e poi diciamo in questo momento c'era anche diciamo il contrantare del lui era molto sollecitato da quest'articolo di Achille Bonito Liva seppelliteli con i loro quadri no quindi anche Achille aveva iniziato ad aprire questa questa tematica e il professore era perfettamente in armonia cioè io per esempio devo dire che tra i due di cui insomma si parlavano sempre l'uno dell'altro l'uno dell'altro io sempre perché mi frequentavo entrambi sia Bonito Liva che il professore a me sembra che si siano sostenuti entrambi cioè no abbiano avuto diciamo un dialogo a volte sembrava era un contraltare ma di sostegno insomma comunque al fondo c'era un rispetto reciproco e hanno anche scritto delle cose insieme diciamo di di comune accordo e quindi il professore diceva la problema mi avviso va visto sotto due punti di vista uno relativo alla conoscenza dei materiali dal cobismo a oggi sono entrati in uso materiali non tradizionali molti sono industriali della cui durata e conservazione poco sappiamo quindi il fatto conoscitivo precede quello conservativo perché si conserva solo quello che ci conosce anche questa frase di Giorgio De Marquis nella sua semplicità è illuminante cioè ancora oggi non tutti capiscono che bisogna conoscere quello che si ha sotto le mani prima di pensare a conservarlo e pensare a restaurarlo pensiamo all'arte contemporanea qui risiede tutta la soluzione della problematica relativa alla gestione dell'arte contemporanea e il professore già l'aveva ben espresso andrebbe perlomeno fatta una statistica dei materiali usati negli anni 80 e poi vi è un aspetto ideologico cioè l'oggetto dell'arte contemporanea se e quanto è fatto per durare non è solo il caso di l'effimero degli anni 60 Picasso quando ha fatto la chitarra e la miera di ferro che oggi al museo d'arte moderna di New York disse al suo mercante di allora che avrebbe volentieri venduto il progetto in maniera che ognuno se lo potesse fabbricare da sé e siamo nel 1912 oppure opere che hanno la durata dell'esecuzione come le opere teatrali tutte queste componenti materiali diversi più ideologia che non è necessariamente mirata alla produzione di un oggetto destinato all'eternità in un'ottica di restauro pone dei problemi che non possono essere risolti con le stesse soluzioni poste per l'arte antica una cosa che ritengo indispensabile e cercare di conservare l'immagine non la cosa secondo lei l'uso di materiali deperibili per alcuni artisti è voluta facciamo l'esempio di Pascali nel caso di Pascali sì perché egli ha operato in anni in cui l'artista si rifiutava di essere un produttore di oggetti negli anni delle grandi contestazioni di una visione del mondo basata su una produzione economica e sulla crisi del concetto che la produzione è un bene di per sé voleva essere un suscitatore di esperienze un performer coinvolto in un'esperienza con un'intenzione di riciclaggio del prodotto industriale in un'esperienza artistica quindi non era compresa la durata del significato del lavoro allora cosa possiamo conservare? le fotografie e pensando al mare di Pascali si possono conservare le cassette di zinco che sono lo strumento che l'artista usava per la sua esperienza e per poter tramandare l'idea artistica esigenze sempre presenti in ogni artista sì è vera un'esigenza sempre presente per fortuna il mondo delle idee è mortale il lavoro di Pascali ha provocato delle conseguenze un'ultima domanda di questo Pascali secondo lei professore ne era consapevole? fino a un certo punto sì era cosciente che ogni cosa che faceva era un'idea nuova negli ultimi anni che ha lavorato praticamente ogni mostra era una mostra con oggetti fatti con materiale diverso e seguendo un'idea diversa di questa sua stessa capacità di invenzione lui ne era abbastanza consapevole tornando al problema della conservazione non si tratta di conoscere solo i materiali ma avere un archivio una banca dati relativi a certi effetti che l'artista si è proposto di raggiungere in cui l'oggetto era solo un veicolo senza valore formale in sé ma solo una macchina che doveva produrre certi effetti ad esempio artisti della ricerca cinevisuale dei primi anni 60 facevano oggetti in movimento con materiali industriali facendoseli montare da operai quindi la manualità dell'artista non c'è più se poniamo una lampadina si sfascia il restauratore che fa? la deve riparare sostituire e se non si trova più in commercio perché l'industria non la produce più allora bisognava aver fatto una schedatura di tipo conoscitivo che alla base di ogni azione di conservazione in cui io devo sapere quali quantità e qualità di luce l'artista aveva impiegato durante l'intervista come dicevo prima il professore divagava con episodi silaranti sui personaggi personali fatti di artisti galleristi e critici ma poi suggerendoci di andare a leggere le pubblicazioni specifiche testi laddove naturalmente poco compariva di questa vita vera da lui riportata e così concludeva dicendo ecco così avete capito tutto io termino e ringrazio di questo invito nuovamente di questa opportunità di trasferire questa breve esperienza personale che però per me è stata davvero indimenticabile e per questo io ringrazio ancora il professore grazie grazie a te Elisabetta per la condivisione di questi ricordi personali bellissimi grazie e adesso il professor Massimo Fusillo che ci parlerà appunto della un po' della di quel Giorgio che scrive di letteratura ecco quel Giorgio di cui dicevamo stamattina che è andato in pensione rientra all'Aquila e si occupa di altri argomenti e pubblica questi librettini raffinatissimi con Alemandi per esempio e con no scusate con Sellerio e con Einaudi grazie ecco sì non so è partito devo premere qui quello che le ho dato stamattina che si chiama ecfrasis no De Marquis De Marquis eccolo qui devo premere quello di sopra no questi qui di sotto ecco sì sì perfetto ecco bene grazie anch'io ringrazio moltissimo per l'invito ringrazio la fondazione De Marquis l'Accademia di Belle Arti ecco io ho accettato perché oltre ad avere un interesse per questi testi letterari c'è un interesse per questi testi in quanto testi letterari ho anche un rapporto personale con l'arte contemporanea da quando ero ragazzino insomma alle scuole media ho avuto un insegnante un po' folle che veniva dall'ambiente romano io ero a Napoli e insomma ho cominciato a leggere e a vedere arte contemporanea già a 13 anni poi ho frequentato molto la galleria d'arte contemporanea di Lucio Amelio a Napoli insomma poi la materia che insegnano le letterature comparate è una materia che si basa su l'attraversamento di confini fra le discipline si è parlato molto dell'eclettismo di Giorgio De Marquis l'eclettismo è insito nella letteratura comparata perché è una indisciplina che attraversa i confini e anzi negli ultimi tempi si occupa sempre di più di visualità cioè di letteratura e visualità letteratura e altre arti e e quindi diciamo per me è un gran piacere parlare di questi testi ecco innanzitutto vorrei partire da una una poeta quella che ho chiamato poetica del paratesto cioè nei nei tre lavori di De Marquis c'è un interesse per le soglie ecco questo è il paratesto per prefazioni dediche titoli copertine perché il testo letterario è innanzitutto per lui un oggetto un manufatto un libro e e per esempio un buon punto di partenza può essere il congedo del poeta il ragazzo e la ragazza a Roma in inverno nel 27 avanti Cristo quando lui dichiara che ha voluto ho voluto togliermi di dosso l'uniforme stretta dello specialista e riprendere i panni dell'umanista e qui c'è indubbiamente il rapporto con gli studi di filologia classica fra l'altro anch'io ho studiato filologia classica alla normale di Pisa quindi c'è un mi sono ritrovato anche in questo percorso dalla base filologica all'eclettismo o al contemporaneo e quindi in questo congedo c'è anche poi tutta una serie di dediche e di luoghi che sono evocati con grande ricchezza lirica possiamo dire insomma Senigallia il liceo Coutugno all'Aquila dove ha incominciato appunto a studiare la letteratura antica poi Pisa e la filologia classica Parigi e i buchiniste dove ha incominciato a comprare una serie di di lavori di opere di libri che poi sono stati importanti appunto per la sua formazione per la sua vita e Tokyo e i silenzi ecco a me mi interessa questa dedica a Fusatoshi Fujisawa i cui silenzi e le cui conversazioni poi vabbè diciamo ecco perché il silenzio lo dirò dopo ovviamente lascio un po' di però il silenzio per me l'ho messo anche nel titolo per per dei motivi che appunto spiegherò fra poco ecco nel congetto ci sono una serie di dediche però nel prologo c'è una dedica più lunga all'omonimo e minore nipote e da questa dedica esce fuori anche una visione della letteratura che è anche una visione in genere dell'arte quindi secondo me può essere interessante parlarne e secondo me rientra anche in molte cose che sono state dette in questa bellissima giornata cioè al nipote lui spiega quello che farà cioè ti darò delle informazioni un quadro storico necessario per capire Orazio però queste informazioni vanno poi bruciate deve essere un materiale di combustione e così deve fare il lettore così ha fatto anche l'autore l'autore ha una serie di materiali culturali che brucia per poi creare che cosa la parola poetica che è inconsumabile per ecco questa teoria della parola poetica come qualcosa di inconsumabile che ha a che fare anche con una componente neoplatonica che è uscita fuori anche dall'ultima quando si parla di idee immortali no di Pasquale ora quando poi dopo aver fatto tutto questa aver dato al suo nipote questa serie di informazioni culturali storico biografiche filosofiche insomma il contesto prima di c'è un lungo un lungo commento diciamo analisi stilistica di Orazio e poi dice c'è una pausa di silenzio in quella pausa di silenzio ci siamo noi perché in quella stanza c'è quella pausa di silenzio perché a quel punto in quella stanza ci siamo anche noi questa frase mi ha colpito sia per il silenzio sia per questa idea possiamo dire un po' performativa della parola poetica cioè la parola poetica è tale perché ci fa stare dentro quella stanza di Orazio e questa componente performativa usciva fuori anche dall'intervento dell'amico e collega Giuseppe Di Natale a proposito di Pasquale poi si è parlato anche del fatto che Pasquale è stato allievo di Toti Shaloia che in due ente era un personaggio pieno di teatro diciamo e di performatività quindi mi sembra interessante che anche quando si parla di un poeta latino un poeta di secoli prima l'effetto è quello della presenza cioè oltre alla rappresentazione lui ci fa stare dentro quella stanza poi dell'abitare se ne è già parlato molto bene quindi non voglio non voglio aggiungere molto però voglio dire che anche nell'abitare si vede una poetica oraziana ed epicurea dell'arredamento e dell'abitare appunto che può sembrare abbastanza insolito per uno studioso di arte contemporanea per esempio a me ha colpito la frase che non ci devono essere oggetti incongruenti perché sappiamo benissimo che invece l'arte contemporanea non fa che mettere oggetti che accumulare oggetti incongruenti penso a Paul McCarty e al suo studio di artista enorme che ho visto alla fondazione Prada insomma no forse un altro posto a Milano vabbè insomma comunque lo conoscete sicuramente ecco oppure che cosa vuole nell'arredamento le relazioni chiare e coerenti che è indubbiamente quello che appunto in genere l'arte contemporanea non c'è però ecco altre cose mi hanno colpito di questo testo il richiamo a Pascal che secondo me è da un spessore filosofico e umano esistenziale questo interesse per la dimensione domestica e per gli animali il gatto poi a un certo punto si parla della tigre in un passo diciamo non proprio femminista che lascio da parte non avrei mai non vorrei mai vedere una donna in bigodini in questo spazio vabbè e però poi invece la soffitta di cui già si è parlato il silenzio il silenzio degli oggetti dei sueti gli oggetti dei sueti è una categoria che è molto importante per l'arte contemporanea l'oggetto antifunzionale che a me interessa anche come studioso di letteratura perché uno dei miei maestri a Pisa ha scritto un libro Francesco Orlando un francesista teorico della letteratura ha scritto un libro sull'oggetto di sueto come grande categoria della letteratura che secondo me andrebbe anche applicato all'arte contemporanea e infatti in questo finale dell'Ell'Abitare c'è in tutta questa poetica così armoniosa oraziana però c'è qualcosa di inquietante cioè ci sono appunto questi animali questi scarafaggi queste presenze appunto veneto inquietanti ed è bellissimo che in questo finale in cui c'è l'inquietante dopo tanta razionalità c'è questo Merlicht che è evidentemente un omaggio a Goethe le ultime sue parole le ultime parole di Goethe prima di morire e secondo me è veramente geniale come appunto con una piccola citazione molto colta cioè che si rivolge a un destinatario che conosca Goethe e ancora sul congedo e poi passerò cerco anch'io di non rubarvi troppo tempo perché siamo appunto un po' oltre i limiti che si erano posti però mi ha colpito molto questo in questo congedo e dedica finale anche questa idea della memoria intangibile cioè ci sono lui dice memorie tangibili e memorie intangibili e perché le memorie intangibili sono ovviamente le più preziose però queste memorie intangibili è legato anche a una paura diciamo della della dissoluzione della sparizione a un certo punto c'è una frase molto bella la storia è un'immensa cancellazione e e quindi a questo punto si capisce anche il silenzio il silenzio è qualcosa che fa da contraltare sempre alla parola è il limite della parola non a caso il silenzio è considerato dall'anonimo il sublime una strategia del sublime e e alla fine in questo in questo congedo c'è c'è anche una c'è una bellissima frase appunto sulla paura appunto di perdere identità che è un momento in cui il suo stile si fa meno appollinio meno razionale meno armonico ve lo leggo luoghi che fanno parte dell'identità di chi vi è nato e di chi ancora prima di nascere vi è vissuto nelle vite di coloro che lo hanno preceduto questo è proprio la poetica dell'arbitare identità che tuttavia tuttavia non è uno stato passivo e che se non si e che se non si incrementa sia pure sognando con le proprie azioni può facilmente macchiarsi scolorirsi rimpicciolirsi perdersi per inadeguatezza per oblio per decadenza per castrazione subito volontaria per infezione contratta come sarebbe una mesaiance per attrazione involutiva di ritorno al fango biologico primordiale e allora non si sopporta nemmeno più che ne restino le tracce nei luoghi e nelle cose ci si adopra per cancellarle può essere una patologia limitata contro cui l'insieme del sistema immunitario reagisce può essere l'indizio insidioso di un'irriversibile degenerazione luoghi che fanno parte della mia identità e cui sono pienamente tornato perché il sogno non si interrompa e duri ancora un poco shortly all my labors end prima che il sogno finisca se non potrò trasmetterlo a nessuno capace di sognarlo I'll break my staff nulla è stato cala il sipario e resta calibano è un momento appunto di angoscia di perdita come se il sogno non bastasse a riscattare appunto la dissoluzione e lo trovo di una bellezza straordinaria e soprattutto trovo anche qui molto bello saper incastonare una citazione ovviamente in originale se la prende con chi non conosce le opere in originale da Shakespeare e da questo appunto grande sogno postumo insomma ultima opera di un grande genio dove c'è appunto la paura della morte della perdita e resta calibano resta appunto il selvaggio sul fatto che resti calibano ovviamente gli studiosi di Shakespeare postcoloniali in particolare hanno scritto tante pagine ma mi sembra bello che lui l'abbia messo alla fine ecco veniamo a quello di cui vi vorrei parlare di più sempre appunto senza prendere troppo tempo cioè l'ecfrasis l'ecfrasis è una pratica intermediale per eccellenza la definizione secondo me migliore è quella che ha dato uno studioso americano in un libro molto bello il museo delle cose che è un libro appunto sull'ecfrasis James Heffernan che una volta è invitato anche all'Aquila quando ha fatto un convegno sull'ecfrasis cinematografica la rappresentazione verbale di una rappresentazione visiva oggi appunto l'ecfrasis si usa anche verso musica verso cinema e anche verso le installazioni come fa Mauro Kovacic però insomma in genere nasce come descrizione di opera d'arte nel senso pittorico e ci sono due grandi tipologie di ecfrasis l'ecfrasis che si espande diventa narrazione si libera dal dato visivo e l'ecfrasis invece analitica che è sempre strettamente aderente al dato visivo questa cosa si vede già nella letteratura antica cioè da un lato c'è Omero che inizia lo scudo d'Achile ma poi se ne frega di quello che si vede nello scudo e comincia a raccontare perché se non racconta se non è troppo preso dalla gioia del narrare appunto che piaceva tanto a Goethe oppure invece la letteratura ellenistica le descrizioni di quadri che abbiamo nei romanzi d'amore e d'avventura nelle soppopera dell'antichità insomma nei romanzi greci sono precisissime al dato visivo e nella modernità questo ritorna insomma c'è Diderot che tende più alla precisione c'è Ruskin invece che alle volte appunto anche lui si fa prendere insomma dalla mano letteraria e poi vabbè c'è Longhi che è un critico d'arte ma è anche un grandissimo scrittore insomma queste due anime ci sono tutte e due nella storia dell'Exfrasis e spesso si contaminano è inutile credo che sappiate già la risposta di dove sta Giorgio De Marchese sta nella seconda insomma nella precisione assoluta e oggi si è parlato tanto della sua precisione mi ha colpito questo fatto che la sua critica d'arte sia appunto molto lontana come è stato detto prima dalla letterarietà di Brandi che è stata appunto anche una delle mie letture adolescenziali o dalla filosofia di Argan sono d'accordo con quello che è stato detto anche da Giuseppe su Argan che ricordo quando dopo essere stato la prima volta alla Gnam a essere stato colpito dalla sala di Pascali ma anche da quella di Capogrossi andai a leggere il saggio di Argan dove però insomma c'era molto soprattutto Argan alla fine era quasi più un saggio su Husserl che su Capogrossi qui invece è veramente un'altra via è la via della precisione filologica insomma e anche quando lui fa Ecvrasis in questo terzo libro che è l'unico che ho in carta Giorgio De Marchesi il pittore l'umanista il cagnolino che conoscerete ovviamente e qui c'è indubbiamente una Ecvrasis di assoluta precisione anche qui c'è la poetica del paratesto la dedica al bambino Elia Steve grande polemica contro le mostre fast food dice ormai è meglio andare negli studi degli artisti oppure alla vernice della biennale che viene salvata per fortuna da frequentatore assiduo e compulsivo della biennale sono contento anche qui c'è un contesto storico culturale estetico biografico che viene sciorinato con una anche qui precisione ricchezza di dati tutto sulla Venezia del cinquecento non solo tutta la storia di Venezia insomma è prima di arrivare poi al punto cioè a Carpaccio ora però questo mi ha fatto pensare molto al saggio famosissimo anche contestato un po' dagli storici della fotografia come voi sapete meglio di me ma insomma sicuramente un bel saggio quello di Roland Barthes sulla fotografia la Chambre Claire Barthes come sapete distingue fra studium e punctum allora è come se De Marquis volesse fare la stessa cosa c'è bisogno prima di tanto studium di tanto contesto bisogna sapere un po' tutto su che cos'era Venezia per poi leggere i quadri però poi c'è il punctum ovviamente il punctum è il cane di questo parleremo fra un attimo ecco l'Ecfres della visione di Sant'Agostino di Carpaccio ecco fra l'altro si riceveva prima e poi lui quando ha detto Barbara all'inizio insomma poi quando passa a scrivere addirittura scrive di Carpaccio non di Balla non di e fra l'altro mi piace ricordare perché prima ho ricordato appunto se mi permettete dato che insomma c'è stato un po' di autobiografia anche qui giustamente perché insomma siamo persone quindi raccontiamo anche come siamo arrivati alle opere raccontavo appunto della mia adolescenza nell'avanguardia napoletana e nei teatri diciamo d'avanguardia di Napoli io sono fatto tutte le mie esperienze prima di decidere di fare appunto tutt'altro assieme poi a un regista che è diventato anche famoso che è Mario Martone e Mario Martone uno dei suoi primissimi spettacoli fatti a 17 anni insomma che poi portati all'Università di Salerno era su Carpaccio lui decise di fare uno spettacolo di pura vanguardia da Carpaccio perché insomma ci sarebbe forse da chiedersi ecco questa fascinazione di Carpaccio però veniamo a ecco l'Ecfrasis è appunto precisissima lunghissima io non non ve la leggo ovviamente tutta però quello che mi ha colpito è l'interesse per gli oggetti ovviamente però mettiamo no sì devo farlo da qui scusate mi confondo fra ecco non vi ho fatto vedere scusate perché sono abituato a lavorare col computer vabbè ve la potete leggere poi ve la rifarò vedere questa questa slide che avevo fatto su H3S silenzio la rimetterò dopo ma vabbè un po' di nettitudine pratica me la concedete invece però ora poi ritornerò voglio andare qui insomma così vi leggo e voi vedete la quantità di oggetti contenuti e minuziosamente rappresentati nello studio di Sant'Agostino è straordinaria e vale la pena di passarli in rassegna della scranna del pastorale della mitria si è già detto così pure degli arredi dell'altare la statua di Cristo risorto posto sulla mensa molto simile se non uguale a un bronzo lombardesco di provenienza ignota oggi al museo Pol di Pezzoli di Milano e il cherubino in mosaico su fondo oro nel catino alludono forza alle revelazioni sulla gloria celeste che San Gerolamo gli avrebbe fatte nella sua apparizione il tavolo piano rettangolare da lavoro dietro cui siede Sant'Agostino è un oggetto molto singolare incernierato alla parete destra sotto il finestrone della visione e sostenuto all'estremità opposta da un elaborato piede metallico e candelabro è ricoperto di pelle o di panno tinto in verde fissato ai bordi da borchie metalliche simile rivestimento al sedile anch'esso incernierato al muro dignificato da un cuscino rosso parimenti simile al rivestimento della pedana semicircolare al suolo discretissimo accenno di catetra su cui poggiano i mobili rivestita di pelle o di panno rosso fissato con borche e anche la scranna con il ginocchiatoio appoggiato alla parete sinistra il dipinto è tutto costruito sulle dominanti del rosso e del verde in un ripostiglio tipo a muro nella parete che sostiene il tavolo e sotto il piano di esso sono contenuti libri vari e una clessidra di cui insisteva un'importante produzione a murano col nome di vasi d'ore strumento di misurazione del tempo e più ancora simbolo del tempo come oggetto di riflessione filosofica il piano del tavolo del sedile della pedana sono ingombri di oggetti per lo più libri aperti o chiusi ma anche fogli volanti e cartigli e il tavolo da loro di uno studioso di un autore di un bibliofilo ma non solo mi fermo qui perché il tempo è limitato ma sono pagine appunto di assoluta precisione non c'è niente dell'ecfresi narrativa di Baudelaire dell'ecfresi narrativa anche di Longhi perché pur essendo critico d'arte anche Longhi ogni tanto appunto si fa prendere come Omero dalla gioia del racconto qui invece c'è una precisione straordinaria però ecco c'è poi un ora torno indietro così torniamo a quello che deve essere il mio punto di arrivo su cui finisco è la questione appunto del del cane dicevo che appunto questa precisione quasi ma non significa metto qui nella slide insomma non significa che non ci siano dei delle prospettive interessanti l'infatizzazione degli oggetti la luce il punto di vista e poi soprattutto questo questo finale che chiamo neoplatonico vediamo un po' perché eccoci qui infine sostituto culturale coelente e simmetrio all'ingombrante leone di San Girolamo compagnia domestica certo poco adatta allo studio urbano di un dotto umanista potrebbe rappresentare il mondo della natura armoniosamente incluso nell'orizzonte della humanitas ma è anche forse soprattutto fra tanti oggetti inanimati l'atore di una carica affettiva nel luogo che occupa con così palese singolare evidenza facendone un luogo di vita scelto e amato vicino a lui quasi speculare al sigillo cardinalizzo si trova il cartiglio con la firma in capitale maiuscolo del pittore Victor Carpatius Fingebat non può che essere il cane di Carpaccio dello studio di Carpaccio e ciò che in realtà guarda con tanta intensità nell'altra metà della scena è Carpaccio che dipinge la figura del cardinal Bessarione così senza accorgersene senza accorgersene è entrato nel quadro anche lui restandoci per sempre punto a capo puro accento anzi a solo nel concertato di luce di tutto il dipinto frase stupenda secondo me puro accento anzi a solo quindi sinestesia visione e musica concertato concetto dell'opera lirica di luce concertato di luce di tutto il dipinto e questa è l'ultima frase bellissima dell'Eckphrasis qui termina il nostro viaggio amabile piro piro e non resta che l'ultimo delicato ed difficile passo senza il quale tutto quello che ti ho detto conta poco arriviamo al perché il quadro infatti non rappresenta un luogo bensì è esso stesso un luogo dove le cose tutte le cose sono sottratte alla loro illusoria materialità empirica divenendo pure cose mentali allora il quadro infatti non rappresenta un luogo ma è esso stesso un luogo qui c'è la poetica della presenza che dicevo prima oltre alla rappresentazione la poetica anche della performance cioè l'arte deve in fondo essere sempre performativa perché deve darci non il senso della rappresentazione di uno spazio ma del essere uno spazio stare in uno spazio ma poi qui c'è il neoplatonico quindi dove le cose cioè è esso stesso un luogo dove le cose tutte le cose sono sottratti alla loro illusoria materialità empirica divenendo pure cose mentali cioè pure forme sussistenti in relazione fra loro la cui visione e qui c'è proprio Platone volte le spalle al fondo della caverna su cui danzano le ombre chiarissimo la cui visione è pura conoscenza mentale e qui veniamo al punto e la parola può solo virgola dunque deve tacere ecco sguardo parola ma il punto d'arrivo è il silenzio cioè la grande forma del sublime grazie grazie professore grazie se ci sono domande sono contentissimo di prego grazie 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 Grazie. Grazie. Sì, sono d'accordo, cioè l'idea è un'idea che serpeggiava sicuramente in quegli anni, però qui viene poi applicata a Carpaccio, questo è interessante. C'è l'idea che questo quadro, con tutto questo insieme di oggetti, con questa precisione, questa geometria, però poi in questo punctum, qua veramente il concetto di Barthes funziona, del cane va oltre, va verso la presenza che, come dici tu, è mentale, quindi le idee platoniche, ma è anche poi emozione, dramma. Io, scusate, una cosa riflettevo riguardando tutti i libri di Giorgio, che il paratesto è importantissimo sempre. A partire dalla sua prima pubblicazione nel 68 di un lavoro di schedatura delle opere fino al 1967 della Galleria Nazionale, cioè dal 900 al 1967 lui entra in galleria, nel 64 inizia questo lavoro con queste giovani studentesse. E da lì, quello è il suo primo libro pubblicato fino all'ultimo, fino ai fatti della Casa dei Marchi, che è stato pubblicato nel 2008. In tutti i testi Giorgio premette qualcosa, Giorgio usa il paratesto sempre, ed è lì poi che secondo me si manifestano queste due anime. Cioè, Giorgio che è così emotivo, Giorgio che è così appassionato, è nel paratesto, quindi si dà le sue motivazioni, si spinge oltre, parla di letteratura, di musica, parla del nipote, parla ai nipoti, e poi rientra dentro nel testo del libro, cioè poi rientra nel suo ruolo e lo porta avanti, porta avanti il suo lavoro. E ho trovato questi paratesti meravigliosi sempre, cioè ha lasciato lì dentro tantissimo di sé, della sua personalità, delle sue idee, al di là di quello che poi scrive nel testo stesso. Ecco, c'è tanto di suo lì dentro prima, e poi tanto dissemina tutto il suo essere in tutti questi paratesti, Shakespeare, La Tempesta per esempio, me lo diceva sempre che la leggeva continuamente, e ovunque butta questi semi di tutto questo suo, di questa sua personalità così eclettica poi, che non è, ecco, sia un filologo, sia un uomo delle istituzioni, però è tanto anche sentimentale, ed è più sentimentale nei paratesti e in queste, dove si celano tutti i suoi pensieri e tutte le sue, anche tutte le sue paure. Infatti mi ha colpito questa paura appunto della dissoluzione, della cancellazione, che esce fuori, così come invece escono fuori appunto passioni, anche appunto nipote, momenti giocosi, insomma, però ecco tutto ciò che è passione sta nel paratesto, poi invece il testo è molto sempre preciso e calibrato. Ecco, 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 ecco. Ah, questo è molto bello, quindi dovrò parlare con Mario. Sì, perché fra l'altro appunto Falso Movimento era appunto, Falso Movimento era il nome della compagnia, il primo nome della prima compagnia di Mario, poi lo spettacolo era Tango Glaciale probabilmente, sì che portarono lì, perché è quello che girò di più. E l'inizio di Martona, insomma, che era un teatro del tutto visivo, era un teatro così multimediale, insomma era cosiddetta nuova spettacolarità, fu tutto nelle gallerie d'arte, cioè i teatri non... e non a Napoli, cioè adesso lui è così legato a Napoli, film su scarpetta, sì. Però all'inizio, cioè, i primi successi lui li ha avuti nelle gallerie dove Lucio Amelio lo mandava, in Nord Europa, poi al Caffè La Mama New York, primo teatro dove ha avuto successo, cioè prima di arrivare in Italia e a Napoli ha avuto molto... e quindi ci sta benissimo che in Italia forse appunto uno dei primi posti dove è andato è stata la galleria, e non un teatro, e non un teatro. No, questo mi fa piacere, mi fa piacere... Sì, Giuseppe Bartolucci per noi che facevamo teatro d'avanguardia era il guru, insomma, era il guru come poteva essere appunto poi, nelle arti potevano essere appunto un'altra serie di figure insomma che voi conoscete bene, ma per noi, per il teatro il guru era Bartolucci e soprattutto questa sua nozione di scrittura scenica, cioè questo fatto che non si doveva più dare spazio al testo, alla scrittura drammatica, ma solo fare scrittura scenica. No, infatti, il titolo di un libro di Bartolucci, scrittura scenica. Grazie. 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 Spazioso. Ma io faccio che lui si è stato attratto proprio per quella precisione del carpaccio. Eh beh, una precisione... Sì, sì, sì. Una precisione proprio limpida. Grazie. Grazie a tutti. Grazie. 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 Grazie.